Buonasera amici di MMO.it e ben ritrovati in questo nuovo streaming speciale di World of Warcraft Season of Discovery. Questa sera andremo a esplorare le aree recondite del mondo di WoW, quelle inaccessibili, quelle che sembrano essere lì ma poi non ci sono. E invece ci sono, perché il mondo virtuale è un vero e proprio mondo virtuale. E quindi per raggiungerle mi avvarrò della presenza di Plinius. Benvenuto caro Plinius. Wewe, buonasera Askezoe, buonasera Massivi, benvenuti. Mi avvalgo anche del commento tecnico ad opera di Ember Eye. Eccomi, buonasera, buonasera. Io oggi sono trascendente ma sono comunque presente. E poi ragazzi mi posso avvalere di chiunque voglia venire con me a fare questa avventura. Nel senso che a Liorda non c'è problema, basta che ovviamente siate a livello 40. Ma se volete partecipare, insomma, basta che ci seguite. Tanto lo vedete dallo streaming dove siamo e quindi potete tranquillamente venire con noi. Allora ragazzi, il primo dei luoghi che visitiamo è anche uno dei più belli, secondo me. Facciamo subito Kalimdor e vediamo due posti veramente fighi. E poi andiamo a Eastern Kingdoms e in base al tempo che avanza ne vediamo di altre tanti. Il primo che voglio andare a vedere è la zona a ovest delle Red Ridge Mountains, che è una zona non fatta, che però ha delle peculiarità interessanti. Ha proprio delle zone, degli oggetti, insomma. Ci andiamo dopo a Stone Talon? No, ci andiamo subito a Stone Talon, è il primo che voglio fare. Tra l'altro... Ah, ok, segue, deve livellare lo... Comunque se vuoi venire Stardust sei il benvenuto, è anche col coso. Allora col druido. Allora ragazzi, il primo appuntamento è a Sun Rock Retreat Stone Talon Mountains, quindi ti invito Plini a prendere il volo e arrivare. Per chi voglia venire con noi sappia che dobbiamo arrivare qua a nord a Stone Talon Peak nei pressi di questa caverna qua a nord. Quindi se qualcuno vuole seguirci sappia che qua è il punto poi, diciamo, di ritrovo, ok? Ok, allora, classico Sun Rock Retreat. Yes. Bene, in volo. On my way. Buonasera a tutti ragazzi, intanto mi fa molto piacere sentire da Certain Death che lui è arrivato dentro le Caverns of Time. Bravissimo, bravissimo. Sono contento in realtà che tu me lo dica perché vuol dire che si può già fare in questa fase. Io me la volevo tenere per la fase dal 40 al 50, ma in realtà se effettivamente ci sta Tanaris non è poi così altro. Da notare, ragazzi, finché c'è ancora il sole godetevi il tramonto su WoW Classic e sulle lande di Azzero perché è un momento magico. È molto bello a quest'ora del giorno, sì. Anche perché tra poco sarà la notte fonda, quindi godetevi il momento. Io condivido l'annuncio su Facebook e cosa volevo dire? Ah sì, ovviamente, ragazzi, dateci un feedback audio, fateci sapere se i volumi sono bilanciati, se io sono più alto, se io sono più basso. Dovrebbe essere tutto ok, guarda. Bene, bene. Anche su Facebook abbiamo avvertito. Audio perfetto, molto bene, grandi ragazzi. Che piacere avevi qui. Allora, questa cosa delle zone inesplorate del mondo, come anche poi Jal, ad esempio, no, che è la più famosa, ma ci sono tante altre cose. C'è un'isola a sud di Tanaris, ci sono tutte le coste qua, la parte a ovest di Detene, la Tirisfalglades, la parte a nord delle Eastern Pleguelands qua, che non c'è ancora niente. La parte a est della Syringorge, insomma, è pieno di zone WoW che non sono aperte, tra virgolette, no? E a me è sempre piaciuto molto andarla a vedere, perché ti danno un'idea di come viene fatto il mondo virtuale e di quelli che sono i work in progress, non nella costruzione di un morp. E oggi li vedremo. Bene, bene. Sì, per me è una novità, è una prima volta. Io non sono mai stato a esplorare zone, non ho mai visto zone segrete, chiuse. Quindi è una novità. Poi vi anticipo già che andremo qua a Gilneas, sotto il muro di Silverpine, che è anche interessante. Silverpine Forest, sì. Bene. E quindi ci aspetta la scalata dell'Everest, caro Plinus, oggi. Oggi facciamo gli alpinisti, gli scalatori delle Ande. Guarda, io spero, posso solo dire che spero di essere all'altezza, dato che bisogna fare dei salti di precisione. Non preoccuparti, non preoccuparti, non è così difficile, è più una cosa di conoscenza che di abilità e a volte ci sono dei salti di merda, ma si sta lì e si prova e riprova finché non si riesce, non si perde niente, cioè non è noioso, sono piccoli salti. Bene, bene. Nel frattempo il Bonemberai, cosa giochi? È un indie, non so se sia un indie, è un indie, sì, probabilmente è un indie, che è uscito il mese scorso, se non sbaglio, che si intitola Pacific Drive. Ah, sì, sì, è un indie. Che è il survival che c'è la macchina, vero? Sì, è molto difficile da paragonare ad altri giochi perché è abbastanza unico nel suo design, quindi è una specie di via di mezzo fra un chico subnautica e un extraction game. Ah, sì, sì, sì. Se ne hai parlato molto. Molto interessante. Prezzo onesto, 30 euro. Certain Death vorrebbe venire con noi, anche se Ali mi hai preso da The Division 2 e che hai migliorato molto, quanto dice lui. Eh sì, ce l'ha detto, infatti stamattina abbiamo pubblicato una news su MMO.it dopo che non lo facevamo da mesi perché hanno annunciato a sorpresa che arriverà un nuovo DLC barra espansione. Io ormai lo davo per morto, The Division 2, cioè, anche perché bisogna considerare che il primo e finora unico DLC, Warlords of New York, era uscito ai tempi del Covid, quindi parliamo di ormai quattro anni fa. Madonna. Politica un po' schizofrenica quella da parte di Ubisoft, cioè è uscito uno solo DLC quattro anni fa, poi più nulla, tutti pensavano che il gioco fosse morto e adesso dicono che esce un nuovo DLC. Ma pensa a te, ma pensa a te. Cioè, per carità, sono contento, eh, rispetto a vedere morire il gioco sono contento, però è un po' strana come politica di aggiornamenti, un oiato di quattro anni senza nulla e poi escono nuovi DLC. Guarda che belle le Red Ridge Mountains al tramonto, che sballo. Ma in che senso le Red Ridge Mountains? Io vedo Stone and Talon. Sì, scusa, Stone and Talon Mountains, volevo dire. Ok, no, perché Red Ridge è l'Estan Kingdom. Andiamo. Ok. Ci sono, Eastern Kalimdor. Eastern Kalimdor e Western Kingdoms. Guarda che bella mount, c'è la mount esclusiva, Askez. Sì, mi sono preso la tigre con i soldi degli Stranglethorn. Ah, ce l'hai fatta, allora sì. Beh, basta star lì un attimo e farmare. Armato come un pazzo. Bello, eh. Un attimo, tre settimane di Stranglethorn. Tre settimane di Stranglethorn, sì, sì. I Kravos sono lì dentro, ma i vivono lì dentro. Poi mi sono fatto un botto di Repu di The Filers, perché ci sono le cose da consegnare di Stranglethorn. Allora, rispondo a una domanda di Gibu che chiede, provate il Battle Royale di WoW. Guarda, WoW Retail, domani esce un aggiornamento, mette una modalità battaglia su WoW Retail. Magari. Ma noi Gibu, WoW Retail, cioè per noi non esiste. Non ha senso. Non ha senso. Quando c'è un gioco così bello come WoW Classic, Season of Discovery. Poi, se sei uno che gioca regolarmente a Retail, c'è una barrier per entrare assurda. Tu intendi tutta la quantità di roba? No, ma al di là della quantità di roba, la community che gioca a Retail si aspetta che tu abbia un curriculum assurdo per poter fare qualsiasi contenuto in compagnia. Sì, diciamo che è tossica perché fanno gatekeeping. Ma a livelli assurdi, cioè. Sì, sì, sì. E questo lo diceva anche Am. E comunque sentivo che anche a livello di meccaniche, su certe cose è fin troppo complesso. Tipo, avevo visto un video sulle rotation del mago arcano nell'ultima espansione, c'era una rotation tipo con 15 o 16 magie, c'era una roba assurda. Eh, tipo Final Fantasy 14, anche Final Fantasy certe classi hanno 30 skills. Però è anche vero che oggi su WoW Retail c'hai tutta l'interfaccia sparaflesciosa che quando devi tirare le cose ti compaiono blin blin. Sì, sì, però. Se preferisco la semplicità. Ma io... È anche più elegante, diciamo, un gameplay semplice ma che diverso. Sì, infatti sono d'accordo. La bellezza, la bellezza nella semplicità e la semplicità nella bellezza. È la grande lezione che mi ha impartito G2S1. Del resto, come vedi, ci sono ottimi encounter anche qua e divertenti, pur senza essere devastanti. Poi la skill la fai vedere in PvP, eventualmente puoi mettere delle hard mode o delle robe particolari, ma... Eh, vedi, vedi in chat, GB con Femma. Quando provavo ad entrare in un party non lo trovavo mai perché con le add-on vedo il tuo score e dato che ero un new player non mi prendeva nessuno. Che brutta storia che racconti. Però è vero, comunque è calato la notte. Perché siamo in una zona ali di Night Elf, diciamo, di druidi ali qua. Sì, zona buia. C'è la notte perenne. Eh, The Division era bello, sì, inverno mutuo. Io vorrei ancora sapere che fine ha fatto The Division a Etaland, che teoricamente è pronto a uscire da un anno, tipo, sparito. E poi c'è anche The Division 3, ma quello vabbè, lo vedremo. Proprio più lontano nel tempo, più avanti. Però The Division a Etaland è assurdo. Un anno fa era pronto. Io ho già sfruttato un po' di sconti sia su Steam che su GOG. Ah, bravo. E mi sono preso qualche titolo che in realtà ho già giocato, ma volevo averceli. Cosa ti sei preso? Eh, anche su GOG. Eh, ho preso Gris. Ah, Gris, bello. Eh, poi ho preso... Ho preso Sleeping Dog, che avevo un CD, ma volevo avere anche su Steam. Definitive Edition? Sì, esatto. Ma costavano 3 euro, cioè, delle cose infime. E poi è un gioco che non ho mai giocato, in realtà, che ho sempre voluto provare, perché non si interpellare molto bene, che è Guacamili. Sì, siamo un indie famoso. Sì, sì, ho visto un playthrough con WC ai tempi, ma... Sì, sì. È un bel indie, molto famoso. Bene, caro Plinius, prima zona. Sì, ci sono dei mobili, ha Elite. Sì, sì, chi se ne frega, evitalo, vieni qua. Ah, non ti attacca? No, perché è basso, è 3,25, quindi agro range ridotto. Qua c'è l'unico salto che devi fare per arrivare a Raid Ridge, alla parte... Scusami, a Stone Talon, alla parte segreta, che è questo salto qua. Quando riesce. Ok, ci provo. E ho preso le Tue No Tumore e non è male, si piace il genere. Però non c'è su Steam, è vero, Tenai? L'hai preso su Epic Game Store? L'hanno patchato, zio. No, no, calma, calma. Eccola, speranza, c'è, bravo. Ci hanno fatto, la speranza di rampa. Che nabbo, Askez, che non c'è, ok. Saliamo. Sono le hitbox, non le hitbox. Le hitbox gigantesche, dovrebbe essere più difficile per me. Comunque, no, bello Emberai, e io ho preso Askez, anche Askez, qualcosa da dire sui salto. di Steam. Ah, attenzione, è una cosa rara questa. No, è grazie al buon Plinius mi è stato regalato Blade Runner Remastered. Blade Runner Remastered? Il giorno, la ventura grafica di Westwood del 1997. Ah, ok. Io posso saltare direttamente da qui. Ma sì, prova a saltare direttamente. Sì, storico, interamente doppiato in italiano. E lo giocherai? Sì, voglio fare uno streaming anche. Ah, molto bene. Ma pensa che l'ho comprato pure io, perché stava a 2 euro, è un grande classico. Qua c'è un altro salto non facilissimo, vieni qua al bordo. Ok, ma vado al bordo massimo? Ma, lì va bene. Perfetto. Eh, poi devi consigliare che per Asks è un valore nostalgico perché c'era giocato da ragazzino, io no. Ah, ecco. Siamo in zona bugona, ufficialmente, caro Plinius. Buonasera, Orange Knights che ha donato 200 bits. Sponsorizza questa zona bugona, grandissima. Vero massivo, postumano, asceso. Infatti stiamo ascendendo. Vedi, guarda come ascendiamo, guarda. Guarda come ascendiamo. Sei pronto, sei pronto, sei pronto, sei pronto. Vai. Oh. Uh, incredibile. Incredibile. Signori, cosa stiamo vedendo? Cosa stiamo vedendo? Eccoci, è una prima zona segreta di WoW Classic. Eccoci qua. Qui è un sacco di screenshot. Qua siamo a ovest del Sonetalon Mountains, c'è un sacco di roba da vedere qui, un sacco. Adesso ti ci porto. È bello che c'è ancora il sole. Eh, ma infatti, ma infatti sbrighiamoci prima che tramonti perché ci sono dei paesaggi qua. Poi vedrai, adesso questa è zona non fatta, è ok. Ma poi vedrai che ci sono dei posti veramente belli. Qua siamo a limitare della... Vedete che è tutto non fatto, no? Fondamentalmente. Eh, siamo lì sotto. Sì, c'è poi il mare fondamentalmente. C'è ancora un pezzo e poi c'è il mare. Eh sì, è vero, perché a ovest di Stontalon c'è il mare. C'è il mare, esatto. Occhio a non cadere. Occhio anche per terra che ci sono a volte dei punti in cui ti bughi e non puoi più uscire, purtroppo. Io non li vedo, però. No, no, vabbè, tranquillo. Insomma, vabbè, no, ma li vedi. Ad esempio qua c'è una... Quando vieni qua verso di me c'è poi un... Stai laggando? Ecco, c'è un pozzo. Sì, vabbè, quello lo vedo. Ok, quindi questa è la zona da cui si accede alla parte bugherina, no? Diciamo alle zone inaccessibili. Adesso però abbiamo sempre zone inaccessibili, ma fatte perché c'è un flight path degli alli, se non sbaglio, che parte, che passa di qua, e quindi ovviamente la zona, anche se non è accessibile a piedi, è stata fatta perché la vedi dal volo, no? Certo, deve apparire bella. Esatto, quindi possiamo fare o il giro più lungo così, oppure buttarci direttamente, ma facciamo pure il giro lungo per non prendere fall damage. Vabbè che io tanto col gatto non prendo fall damage, col gatto catfoil. Sì, hai ragione, hai ragione. Un po' come il famoso aeroporto vicino ad aeroporto. Infatti anche quello è nella lista di cose da vedere questa sera. Esatto, siamo al limite del mondo. Nel frattempo un saluto a tutti, un sacco di utenti stasera. Buonasera, Lucatex, Ladelfio, Nemilis, Orko Khan. Grandi ragazzi. Sì, sì, poi andiamo anche a Winter. Certo che ci andiamo, certo che... No, 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 si può fare, si può fare, ci sono già stato, sono anche andato a Ijal. Solo a Ijal non riesce ad arrivare vivo purtroppo, però poi volendo la vediamo da spirito. Una sera anche Andy Smith, bella raga. Sei pronto? Sì. Ma io ci muoio? Mi butto in cat form, ok? No, sì, non muori, non preoccuparti, non è così alto. Vabbè, mi butto in cat form. Eh, più o meno, già in cat form ho perso un botto di vita. Guardati sto pezzo, quanto cavolo è figo. E questo è anche un pezzo irraggiungibile. Questo è un pezzo assolutamente irraggiungibile, ma qua ci passi con un volo Alli e quindi è stato fatto. Ho capito. Guarda, sta proprio tramontando adesso il sole purtroppo, siamo al limite. Eh, vabbè, dai. Guarda, guarda, guarda che scenari, guarda. Questa è tutta roba dove non ci va nessuno, è roba che nessuno ha mai visto. Sono in zone segrete, guarda, le rovine segrete. Sprezziamo sempre una lancia a favore della grafica eterna di WoW, che non invecchia mai. Guarda, qua c'è la caverna che non porta da nessuna parte. Adesso guardo, sto guardando. Arrivo. Quindi è una caverna che non porta da nessuna parte. Esatto. Se ci sono gli Alli che volano sopra ci vedono. Certo, 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 solo che è abbastanza raro questo flight path. Io sono andaccio, ho venuto un po' di volte qua quando non ho niente da fare, mi piace arrivare in questi posti, e gli ho fatto un po' di slash hello a quelli che passano di qua, li vedi proprio di qua che passano. Hai fatto slash rude? No, quello lo farò quando andrò dietro la cascata di Stormwind. Lol. E questo è il primo luogo, il laghetto. Questo è il mio posto preferito, dei posti bugoni, così a titolo personale te lo dico. Lo trovo molto carino. Beh, beh, questo caro Askes è un posto molto romantico. Avessi una dolce metà la porti qua. Certo, puoi scommetterci. Però se è Tauren la porti qua invece. Certo, vi guardate insieme il tramonto. La porti qua giù, no, perché c'è la tenda Tauren. È Tauren questa? No, non è Tauren questa roba qua, è tipo troll. Si fa a capannella nella tenda. Bene. Pensate che a Butty Bay c'è un vendor che vende proprio gli anelli di fidanzamento e da matrimonio per chi vuole fare RP. Pensa. No, mi costano un botto di gold. Mi ricordo che c'erano anche su Teso gli anelli di fidanzamento. Ora, qua non so se passi qualcosa. Guarda, guarda in alto, guarda in alto. C'è la gente che sta passando. Per un attimo sono passati sopra, due anelli. Ho visto. Anche adesso, anche adesso. Esatto. È vero. Eh, vedi che qualcuno passa. Passano, passano. Sì, sì. E quindi questa è altra zona fatta. Ovviamente, poi io mentre mi stavo soffiando il naso, però passano. Passano, passano. Guarda sulla mappa dove siamo, non siamo neanche più in una zona, non ci considera neanche in una zona. Eh sì, è come se fossimo in un dungeon, anche se fuori al mondo. Arriva il ban in tre, due, due. Ci sono anche gli easter egg in queste zone, spesso e volentieri, sintomo del fatto che Blizzard comunque voleva. Io adesso non mi ricordo in quale zona fosse, ma c'era una zona appunto non costruita, che era letteralmente vuota, con una scritta. Work in progress, Eijal. C'è il cartello Under Construction. Poi nella montagna di Ironforge c'è la vetta segnata, anche se non ci potresti mai arrivare, c'è un po' di queste cose che ti fanno intendere. La musica però è interessante, hai notato che è partita la musica di Tanaris. Ah, di Tanaris? Eh, questa haunting music è Tanaris. Bene, caro Plinus, adesso ti porto ai neri cancelli di Mordor. E se qua ti butto vado in mare. Se qua ti butto ti va in mare, infatti non farlo. Beh, oddio, tanto dobbiamo comunque, no? No, ok. No. No, ok. Perché qua andiamo ai neri cancelli di Mordor. Andiamo, andiamo. Sei pronto? The Black Gate. Beh, speriamo che non... Da qua non si torna per indietro. Speriamo che non ci sia la bocca di Sauron ad accoglierci. Uh, vedo che faccio uno screenshot, guarda che bello. Guarda che roba incredibile, troppo belle queste cose. Tutta la zona in development ancora. Abbiamo già la copertina di... Quella che sarà la copertina di questo streaming. È stato poi tutto rifatto con Cataclism, ovviamente, quando hanno aperto il mondo alle mount volanti e quindi tutte queste zone che normalmente sarebbero state inaccessibili e quindi invisibili le hanno dovute fare perché con la mount volante basta che ci passino, ovviamente. Certo, certo, no, assolutamente, fighissimo. Voglio vedere se riesco a salire qua sopra. Aspetta un attimo che controllo quello che dice Oikokan. Non è ancora arrivato nulla, Oikokan, però arriveranno. Comunque grazie mille, ovviamente. Dice che ha regalato 5 abbonamenti. E come mai non arrivano, maledizione? Non lo so, però... Qua bisogna fare causa Twitch immediatamente. Ma conta il pensiero. Grazie mille, Oikokan. Adesso vediamo, ovviamente, se non arrivano poi i contattaci e vediamo cosa fare. Ma sì, ma sono sicuro che arriveranno. Ci mette un attimo. Vero massivo postumano, comunque. Grandissimo. Grazie mille di cuore. Grande. Non cadere, eh? Assolutamente. Se vuoi mi metto in follow, guarda. No, 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 per carità. È proprio rischioso. Eh beh, di per se fai i movimenti bagatini, i movimenti LAM, sei poi un bastardo, eh, per farmi cadere di sotto. Guarda, questa è la grande piana verso i neri cancelli di Mordor, poi capirai come mai. Sì, qui è effettivamente la cosa più simile che esista alle pianure bruciate di Mordor. Non ti preoccupare, Oikokan. Penso che arriverà, ecco, adesso vediamo. Comunque, qui questo promontorio a casissimo... Guarda, guarda, ah sì, è quello, boh, è fatto con l'editor di mappe, cosa vuoi che ti dica. È incredibile questo muro davanti. Guarda, questo è il grande muro. La grande, la barriera? La barriera. Eravamo lì sopra prima, sai quando ti facevo vedere... Eravamo proprio lì sopra. Era barriera di Game of Thrones questa. Ma adesso ti porto i neri cancelli di Mordor. Per proteggerci dagli estranei. Guarda, li inizi già a intravedere in lontananza. Buonasera, Izzy Pizzy, benvenuto. Eh, queste sono le mappe noclip, le mappe segrete di WoW, inestorazio. Esatto, zone segrete di World of Warcraft. Vedi dove siamo. Zone mai disegnate, cioè mai finite, ecco, diciamo così, mai finite. Perciò siete voi gli strani che stanno attraversando il muro in questo momento. Ma alla fine Cravo c'è? Ah, se arriva arriverà. Ok. Eh, ma ormai come ci raggiunge qua? Rip? Eh, arriverà alla prossima zona. La prossima fermata? Guarda, guarda l'immensità, la vastità della mappa. Della mappa. Che me ne frega. L'immensità della mappa che me ne frega. Allora, vedi lì davanti a destra, davanti a destra qua sono quelli che io chiamo i neri cancelli di Mordor. Eh, sì. Perché vedi che c'è una sorta di montagna tagliata che sembra un nero cancello di Mordor. È molto interessante. Lì ci andremo dopo però, prima andiamo di qua. Suonate il conno. Puh, puh. E si aprono. Bravissimo, Easy Peasy Lemon Squeezy. Sì, in realtà prima secondo me c'è un punto ancora migliore. Ma il miglior punto di tutti è Ijal dentro il cratere gigantesco di Archimonde. Quello è il punto migliore dove fare i duelli. Occhio qua che ci si può buggare, eh. Eh. Quindi segui me. Io, sì. Metto i pass e seguo i tuoi pass. Sì, sì, non ti preoccupare. E guarda, questa è una cosa strana, Plini. Questa è una cosa strana. Perché questa è una zona non fatta, no? Quindi qua siamo in piena zona non fatta, giusto? Però a un certo punto di questa zona non fatta, c'è questo, lo vedi anche dalla minimappa, no? C'è questo punto da cui si accede a un posto che invece è fatto. Ma questo posto che adesso vedremo qui, da cui si accede solo attraverso una zona non fatta, che non è battuto da nessun flight path, eccetera, ha un sacco di robe. E nessuno ha mai capito perché. Ma evidentemente io sono d'accordo con la Delfio che dice che probabilmente avevano in programma all'epoca. Cioè, ovviamente, ovviamente. Però non hanno mai fatto nulla, diciamo. E no, non l'hanno più ampliata. Anche perché poi con Cataclysm l'hanno proprio rifatto il mondo. Esatto, esatto. No, ma la cosa curiosa di alcune di queste zone, come questa, nello specifico, è che hanno proprio gli asset, lo vedete. Questa è una zona Goblin. Questa è una zona Goblin, infatti. Di macchine Goblin. Sì, esatto. Esatto. C'era chi diceva che a Cataclysm dovessero spawnare qua i Goblin. Tipo zona iniziale Goblin. La tecnicizzazione, la tecnica dei Goblin è palesemente ispirata alle macchine di Isengard. La tecnica in che... Ah, ok. Nel senso che hanno tutti costruiscono queste macchine con cui distruggono le foreste. Posso entrare in questa galleria? Sì, sì. È chiusa? È bugato. Occhio a non bugarti, che magari cade nel vuoto. Sì, no, effettivamente è bugata, è bugosa, quindi magari ci sto attento. Escolta, c'è il muro gigante che ti blocca. Eh, guarda, sì, sei attento che è bugata. Sì, sì, sì. Delle texture noclip. Poi vai nel noclip, vedi, sì, sì, certo, certo. Attenzione. Eh, figata, Stardust, molto belli. Per me è assoluto la prima volta. Asks, ero un esperto, ma io non ce l'ho mai stato. Mi fa molto piacere condividere questa cosa perché la trovo interessante e divertente. Ebbè, poi è una roba, è una roba unica. Ragazzi, io voglio sapere chi è in Italia che vi porta un contenuto così. Io non l'ho mai visto. Infatti, Easy Peasy vorrei sapere anch'io. Io, purtroppo, Cataclysm l'ho giocato poco. Giusto ho fatto il leveling, i primi dungeon, i primi ride, ma non l'ho mai interpretata a modo, no? Quindi mi piacerebbe sapere esattamente cosa ci hanno fatto qui. Guarda dove siamo. Noi siamo quasi. Il governo è molto facile. Basterebbe lo Guy War Retail perché il mondo è attuale. È quello lì, certo, certo. Bene, Plini, ultimo giro, ultimo pezzo qua. Siamo a ovest di Stontalon, appunto, è la zona esplorabile. Grande Plini, non so anch'io ho pensato... Eh, vabbè, tutti abbiamo pensato, è un meme molto famoso, Veridian. Poi Askez l'ha poi osservito su un piatto d'argento. Detto ciò non l'ho detto, non l'ho detto perché siamo persone raffinate. Vabbè, ho pensato alla vastità della zona di Kalimdor. Si può salire lì sopra, forse sì. Ho ancora su Steam che ero Plini o sui screenshot di Shroud of the Avatar di quando invece uscivamo dalla mappa, noi lì. Certo, no, ah sì, aspetta, non Vanguard, che tu ti confondi Vanguard con Shroud, ok. Aspetta, li mando anche se ti interessa. Aspetta, li mando, ce li ho anch'io in qualche cartella, però mi fa sempre piacere. No, aspetta, che per me è difficile salire qua. È difficile, sì, sì, questo qua è un posto, ragazzo mio, che sei il primo a visitare perché non l'ho mai visto, neanche dagli streamer. Questa vetta, nello specifico. Dammi una mano. Sì, sì, arrivo, 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 arrivo. Perché qua c'è... Mantieni una coda. Esatto, mica, avessi life grip ti prenderei. Ma dai come... stai impazzendo il mio codo? Tu hai un charge, sì che ce l'hai. Col codo? Duel, duel. No, con il reato. Vai. Forma d'orso e mi chargi. Aspetta che non mi ricordo dove l'ho bindato. Ma a questo livello, voi dite che ce l'ho già? Eh sì, sicuro. Eh, è una delle prime cose che si blocca. Sai che non l'ho bindato, fammi cercare nell'espell. Ok, mettilo perché è importante. Ah, è un talento la ferra al charge? Aia. E ha qualcosa con cui può fare un charge o qualcosa del genere? No, non ce l'ho, non ce l'ho, confermo. Ha ragione, fail plus. Ok, vabbè, non importa. Ce la fai sicuramente anche normalmente a salire, guarda. Il segreto è fare un salto di lato, Plini. Devi fare il salto di lato. Il salto di pugno di lato. Ma il migliore di tutti. Mount in mano. Vai tipo qua. È difficile, ovviamente. Questo è un salto complicato. Ma il migliore di tutti è il salto in basso. Te lo ricordi, Tommy, il salto in basso? Questo era già, mi ricordo la parola, ma non mi ricordo. Eh, il salto in basso ha un doppio significato, perché c'è Macho Macho che ha fatto una real tv, e c'è il salto in basso. Ma poi la cosa incredibile è legata a WoW, è che se voi avete il manuale originale di WoW, di WoW Vanilla, se voi prendete il manuale di WoW Vanilla, nei binding c'è un tasto a cui è bindato il salto in basso. Salto in basso. C'è un pochino nel manuale, tipo INS, CANC, uno di quei tasti lì, che non si capisce che cazzo vuol dire. Oh, devi riuscire a bugarti tipo esattamente qua dove sono io. Ma se usassi la cat form... Prova, puoi provare, sì. Questa è più facile. Eh, prova, prova, non lo so. E ovviamente, sai, vedremo nel corso di queste esplorazioni che ci sono salti più facili per certe razze e altri meno, perché cambia la hitbox. Quindi ci sta... A vero, in alcune situazioni può servire, vi dice la sette in death, mettere FIA può servire. Allora, aspetta, adesso provo. Ah, sì, così arriva su da me, è un'idea. Avete ragione, effettivamente, sarebbe una stupenda. A vero, ma se la sette in death è un genio. Eh, però è ancora più difficile col gatto in... Sto anche scattando, eh, sto scattando, ma... Eh, devi metterti qui e saltare. Eh, ci provo, ci provo. E fare il salt. Non mi scavenire, perché io lì dove sei tu. Con la mount ti riesce meglio, ovviamente. Sì, è meglio con la mount. Se no facciamo due e le proviamo... Ti mando in fear, sì, sì, sì. Non so se la... Forse perché la mount del town è un'animazione diversa, forse... È una questione, le hitbox sicuramente ti sfavoriscono in questo caso. Duella? Sì. Smonta. Questa volta in basso... Aspetta, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Vabbè, ho tirato solo... Eh, lo so, ma così mi hai fatto entrare in combat, adesso devo aspettare. Ah, vabbè, scusa. Mi fa pensare al crouching jump di... Vienimi il più vicino possibile. Di George Valve. Eh, così... Non eri abbastanza vicino, peccato, 30 secondi. Vabbè, ma chi se ne frega di sto posto? Chi se ne fotte? Vabbè, ma aspetta, fammi ci provo. Come dicevi il video, come hai detto, Tom? No, dicevo il... La parola salto in basso, non vuoi dire. Mi ricorda un po' il crouching jump che c'era nei giochi di Valve. Ah. Era quando facevi il salto e facevi il crouch allo stesso tempo e ti permetteva di raggiungere... Oh, grande. Ma questo non è il fear, è il mind control. Mind control, sì. Grande. E quindi ce l'hai fatta usando il mio tauren. Esatto, hai visto? Bello è il prete, che cazzo di classe. Aiuto, no, sì, FF. Non è che se facciamo FF ci teleporta. No, no, devi fare slash concede. Ah. Ok. Va bene, niente, ma qua è solo interessante perché vedi lungo la Chared Veil, no? In una zona che non potresti mai visitare. Se vuoi c'è ancora un pezzo da vedere, un pezzo noclip da cui poi si scende la Chared Veil, se no abbiamo finito, possiamo scendere qua e andare al Sun Rock Retreat, come preferisci tu. No, 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 dobbiamo tornare ai cancellini di Moldo. Perfetto, let's go. Ehi, look up, dude. Vedi qui, anche qui a sinistra, questa textura è brutta. Eh sì. Oh mio, bruttissima. Occhio, occhio, non entrare, no! Cazzo. Ottimo, meno male. E quando ci sono quei seghettamenti lì fai sempre il massimo dell'attenzione perché spesso sono unescapable. Ok, ok, meno male. Ma stavo giusto dicendo che brutta queste texture fatte così. Ecco. Ecco. Rip, mi sono salvato. Perfetto, perfetto. Mamma mia, wow, non ce n'è per nessuno. Io amo questo gioco. E guarda, non solo te lo ami, Zepise. No, no, ma non ce n'è per nessuno, hai detto bene. Non ce n'è per nessuno, ragazzi. Askes l'avete tornato un ragazzino, ingiovanito di 12 anni. Con la star season of discovery. Yes. Noi l'altra sera controllavamo la gente e facevamo saltare giù dagli ascensori orda di Thousand Needles. Molto divertente col prete che fa mind control. No, che infami, cioè gli alli, ah lo facevate con gli orda. Sì, sì, è bellissimo. A star di. Neri, eccoci, i neri cancelli. Esatto, i neri cancelli di Mordor, caro Plinius, proprio loro. Come si chiamano le pianure davanti ai neri cancelli di Mordor? Tipo Gorgoroth. Sennò c'è la piana di Dagoerland, dove fanno la battaglia. Eh, battezzala tu, battezzala tu. Eh, o Gorgoroth, Dagoerland. Vabbè, no, inventano uno nuovo. Una roba anche che sia ricordabile, cioè i neri cancelli di Mordor me lo ricordo. Eh beh, però mica è nuovo. Da Dagoerland, è difficile. E mica è nuovo i nuovi cancelli Mordor. MMO.itland. Moitland, la piana di MMOit. MMOITLAND. Ecco, purtroppo mi spiace averteli ai pati molto, questi neri cancelli di Mordor, ma non c'è molto. Però da qua c'è un accesso ad Esolace, se vogliamo. Ah, vabbè, i neri cancelli sono questi qua dietro, cioè questi qui. Sì, sì, esatto, esatto. Sono quei due blocchi, capito? Che sembrano dei cancelli aperti, in realtà è solo il terreno che viene buttato giù, di brutto. Cernobog. Esatto, è Cernobog questa zona qua. For the hole. Eh sì, guarda questi puntoni. Cernopole, no? Com'è che si dice? Campi neri, Cernopole? C-Chornepoli. Eh, ok. C-Nupole. Grazie. La parola più o meno c'era, ma puoi declinarla. L'accento, tanto. Per esempio, noi a Torino c'è via Cernaia, che in realtà sarebbe il via Ciornea, perché indica il fiume nero che c'era in Ucraina, dove c'è stata la battaglia, ovviamente la guerra di Crimea. La guerra di Crimea dell'Ottocento, non quella che c'è adesso. Cioè, non la guerra in Ucraina. Allora, ho idea che se proseguiamo di lì poi non possiamo più risalire, quindi niente, finisce qua e possiamo tornare a San Rocco Retreat. Ma qui? Ma qui tutto questo... Eh, qui ho paura. Vabbè, possiamo... Tanto hai la stone, no? Ma sì, chi se ne frega, andiamo, andiamo. Io, in quanto druido, ne ho due di stone, perché ho anche quella Moonlight. Perfetto, allora. Andiamo, andiamo. Wow, bello. Beh, dicevo, pensa a quanto sarebbe figo se tu entrassi in questa zona segreta e scopri che c'è tipo un esercito, un enorme esercito nascosto, no? Eh, infatti, un bell'istereghe di quel tipo. Le forze del male stanno... Poi è un topo stipico del fantasy, no? Le forze del male, in gran segreto, stanno preparando un enorme esercito, un'armata di orchi che mai c'erà sulle terre degli uomini. Eh, sarebbe figo. Ah, noi siamo del lordo, gli orchi sono buoni. Esatto, un'armata di uomini. Gnomi, bastardi. Gnomi, di gnomi, bastardi. Occhio a non cadere qua, che c'è il pozzo infinito. Ho visto che c'era... Minchia, il pozzo infinito. No, infinito no, però... Eh, vedi che però di qua non possiamo più uscire. Me la ricordavo sta cosa, che non si riesce più a salire. Vabbè, però intanto l'abbiamo fatto vedere ai nostri utenti. Sì, sì. Non possiamo più uscire. Non possiamo più uscire, caro Plinus. Siamo condannati a rimanere per sempre qui. Non possiamo più uscire. Va bene. La porta è chiusa. Vabbè, Hearthstone e andiamo alla prossima zona. E siamo, però vedi, siamo arrivati fino a Desolace. Fino a Desolace, sì. Mi ha fatto di fatto tutta la costa, fondamentalmente, di Red Ridge. A me, a me di teleportarmi, mi dà un'occhiata a cos'altro c'è. Qui c'è un attexto che se ci entri dentro. Ah, da lì. Guarda lì, è vero. Sì, sì, c'è un blocco infernale. Potresti entrare lì dentro e poi fai teleport. Sì, al massimo faccio così. E poi fai la Hearthstone da lì. Comunque. Esatto, un'armata di omuncoli e gnomi. Molto affascinante visitare i non luoghi anche da non giocatori di WoW. Eh sì, hai detto bene, Elion. Questo è quello che in semiotica... Non luoghi. Esatto, questo è quello che la semiotica chiamerebbe un non luogo. Sì, sì. Molto interessante. Si potrebbe fare una tesi semiotica sui non luoghi di WoW. Stone, caroplini, stone. Stone, talon? E ora. Per Orgrimmar o per Moonlight? Orgrimmar, orgrimmar, va bene. Vabbè, che se mi dicevi andare a Winter Spring, quindi ho il teleport. No, 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 adesso andiamo al villaggetto dei troll. Adesso questo è... De questo dovrò aprirmi una guida perché c'è una strada da fare che non è semplicissima. C'è abbastanza lunga. In mezzo lì alle montagne devo vedermela, ma non c'è problema. Fai, fai. Io devo chiedere la chat. No, no, vieni intanto, vieni che prendiamo il volo. Sì, dove hai detto? Eh, direi che andiamo a Ash and Veil, partiamo da lì. Ash and Veil, perfetto. Ti farei andare subito a Winter Spring, ma bisogna arrivarci. Quello sarà un po' una rottura di palle. Oh, ma tu ce l'hai? Ce l'hai Failwood? Sì che ce l'hai? Blood Venom post Failwood, ce l'hai? Ce l'hai? Sto controllando, Felwood, Bracca, no, non lo so, fammi controllare un attimo. Che ansia. Allora. No, ho arrivato fino ad Ash and Veil. Ok, allora andiamo a Splinter ti post Ash and Veil. Splinter sei al posto? Vai. Bene, dicevo in chat. Izzy Pizzy, io spero sempre in un reboot del film di WoW, ma stavolta devono partire dai titani. Anche velocemente puoi introdurre personaggi e razze. Guarda, Izzy Pizzy, discorso molto interessante, il film di Warcraft. Tom si ricorderà che l'avamo guardato insieme. Hanno fatto anche uno streaming su MMO.it. Hanno fatto uno streaming in cui l'avevamo recensito, assolutamente. È ancora online quello streaming, se lo cercate. Ma quello che posso dire è che, con il senno di poi, Blizzard avrebbe dovuto fare un film come Lisa Fai e lei. Come si dice? Live action? Come si chiama? No, è una CGI, è un film in CGI. CGI, è il contrario dell'live action. Cioè, avrebbe dovuto fare un film in CGI. Sono dei fenomeni. Perché sono andati a impelagarsi in quel film? Perché poi il film non era terribile. Diciamo che aveva molti difetti. Non era terribile, però aveva questo problema quasi insormontabile. Ed è che realizzare in un film i personaggi di Warcraft ti sembrano dei cosplayer. Ma anche se lo fai bene. Perché ti trovi con questi umani dell'alleanza, con queste armature grosse. Con questi spallacci giganteschi. Esatto. Sono fermi alla famosa patch degli spallacci bugatti nel film di Warcraft. Esatto. No, però hanno queste spallacce pacchiane, ma perché... Ovviamente perché il gioco ha questo stile grafico grottesco, molto caricaturale. Però se lo fai in un film, che comunque è una grafica realistica per forza di cose, in un live action, viene una roba quasi da cosplay, no? Molto plasticosa. E non funzionava molto bene. Avrebbe dovuto fare un CGI, cioè come quelli di Wattel, che sono clamorosi. Avevano fatto un film che poi, vabbè, non c'entrava niente con il videogioco, in realtà. Avevano fatto un film in CG di Final Fantasy, negli anni 2000. Advent Children. Io l'avevo pure visto all'epoca, non sapendo cosa... In realtà era stato un floppone, perché gli ha costato tantissimo. Però comunque, a livello estetico, a livello di CG, era fatto bene come film. Sì, sì, però all'epoca gli ha costato un fottio. Buonasera, Silma, hai visto un nuovo MMO, ma soprattutto nuovi contenuti. Questi contenuti sono assolutamente inediti. Peccato che sei arrivato adesso. Eh, comunque, cosa stai dicendo? Sì, giusto, Tom. E poi soprattutto erano i primi anni 2000, allora. Adesso, con la tecnologia di oggi, potresti fare un lavoro... Certo. Cioè, ma basterebbe... Basta vedere i corti che fa Blizzard, ad esempio anche con Overwatch. Ha fatto i cinematic più belli del gioco, oggettivamente. Eh, boh, che spreco. Comunque. Guarda, orcocani, i dettagli della trama, ammetto che non me li ricordo, perché sarà da 6-5 anni che non lo vedo. Di World Cup? Sì. Eh, parlava di... Oddio, come si... Non mi ricordo più i nomi, però sostanzialmente era una specie di prequel della storia di World Cup. Sì, c'è la Gul'dan che apriva. Sì, c'è Tral, no? Non c'è Tral che viene liberato e tutto quanto. Eh, sì, esatto. È tipo la storia di Warcraft 2, se non sbaglio. Non c'è la Gul'dan che apriva il Poetale Oscuro. No, 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 aspeh. Aspeh. È la storia del Warcraft che avrebbero dovuto fare l'avventura grafica che non c'è mai stata, quella tra Warcraft 2 e Warcraft 3. Ah, non mi sembra, non mi sembra, Giacomo. Ma non c'è la liberazione di Tral da Durnol, The Keep e tutte quelle storie lì? Non me lo ricordo bene neanch'io, ma è qualcosa di simile, perché comunque c'è Tral a un certo punto. Ah, ci sono tante, ovviamente hanno ficcato insieme tanti episodi. So che di base sono i primi Warcraft. Adesso non so più decisamente se Warcraft 1 o Warcraft 2. Adesso mi vado a dare un'occhiata alla trama e poi per la prossima volta ti dico. Ah, sì, ma... Intanto, giusto perché, così spieghiamo quello che stiamo facendo, adesso dobbiamo arrivare fino a Winterspring, ok? Ora, purtroppo Plini non ha il volo e non ha neanche il volo di Felwood, quindi stiamo partendo da Splinter 3, arriviamo a Felwood e poi andiamo a Winterspring. che moriremo probabilmente più volte, perché sono mob alti. E pensate che io ho arrivato a un passo da... Cioè, io ho arrivato a un passo da Felwood. Eh, peccato, peccato un po'. Il vero dramma è poi dopo verso Winterspring, bisogna dire. Luca Tex dice, Plini può teleportare a Moonglade. Guarda, Plini può accompagnare solo. Sì, allora, Plini può teleportare a Moonglade, però non glielo faccio fare, perché poi comunque gli rimane il volo a Felwood da prendere e quindi rip. Allora, in realtà, gli conviene effettivamente, perché poi anche per il tunnel dei Fulborg si salta a metà praticamente il tunnel, facendo così. Ok, ok, allora quando arriviamo a Felwood tu vai a Moonglade e io vado a Winterspring volando e cerchiamo di beccarci lì. Va bene, va benissimo. Felplast dice che c'è Trall giovane, quindi dovrebbe essere Warcraft 1. Ah, 1 addirittura. Quindi dice così, adesso... Quindi è epoca, e chiamiamola su WoW, è epoca Cavers of Time quando Gul'dan apre il portale, c'è il primo Dark Portal. C'è Gul'dan che apre il Dark Portal nel film, raga. Ho capito. Era un po' che lo sta a dire. Eh, ma anche me lo ricordavo. Ma poi lì non è uno spoiler, eh. Almeno, se ricordo bene, è epoca all'inizio. Ok, però da lì a Trall, cioè, ce n'è un botto nel senso. Adesso si scopre che è l'ultima scena. No, vabbè, non lo so, comunque. Considerate che non lo guardo da tanto tempo. Quindi magari i miei ricordi sono sfasati. Sono assolutamente d'accordo con Easy Peasy che dice vai, Pliny, usa la funzione POP di WoW, il follow. Certo, assolutamente, sto abusando. No, ma lì è proprio la storia cambiata. Sì, è ovvio che l'hanno cambiata. Ma non era che muo... Vabbè, insomma, adesso non scendiamo magari nei dettagli per chi non l'ha visto. Comunque. Anche, sì, sicuramente hanno fatto degli altri. Occhio qui, Pliny, che dobbiamo stare sulla strada e non agrare verso Mobalti, eh. Vabbè, io più sulla strada di così ti sto followando pixel per pixel. Comunque sì, sicuramente hanno fatto dei cambiamenti rispetto al gioco, così come ogni cosa. Ah, ecco, se tende a dire, denudatevi, altrimenti vi costa 5 gold. Allora, ci ho pensato, però un paio di hit li reggo, quindi la tengo lo stesso per quello che mi costa. Ok, ok. Sì, furbo, furbo, bestia. Aspetta che scappo. Aiuto! Eh, ricorre. I furbo, che sono aggressivi, per il plus. Quelli nella cavenna sono molto cattivi, anche. Molto. Quelli li ho farmati, quelli lì per fare il The Diplomat su Retail tanti anni fa li ho farmati come come non ci fossero domani, per cui adesso hanno tutta la frustrazione. Sì, Gamesquita comunque mi dà ragione, ricordavo bene, il film inizia con l'apertura del portale e la sottomissione dei drynei. Bene, vedi che ho buona memoria. Salve ragazzi. Buonasera, buonasera. Hai avuto un dryneo? Eh, ci muoio, Falplast, ci muoio però poi ressando li supero. Carlo, vieni con noi al villaggetto dei troll. Luoghi segreti. Sì, sì, vieni. Abbiamo visto il primo. Sì, un attimo, Logo. Fai qua, vuoi. Fai con calma. Comunque, tu che ne pensi, Ember Eye, del film di Warcraft? Alla fine, con il senno di poi. Devo dire che devo rivederlo perché l'ho visto solo una volta, quella volta lì. Sì, è a giugno 2016. Diciamo che speravo di più, nel senso che a me Duncan Jones piaceva abbastanza come regista per Moon e Source Code, che comunque era uno dei film discreti. No, filmone. Moon è filmone. Anche Source era simpatico. Sì, era carina come idea. Però sì, diciamo che poi non ha fatto un po' di flop. Per cui, anche tipo quel film dove c'è il tipo muto, adesso non mi ricordo il nome, che è molto ispirato a Cyberpunk. È bello esteticamente, però la trama è un po' una cagata. Scappa. Ok, quindi ultimamente non l'ha più azzeccato, Duncan Jones? Eh, no, ha fatto un po' di... Un po' incoglionito. Dopo la morte del padre. Non penso che sia quello. Sai che il padre che ricordiamo tutti era... Come si chiama? Bowie. David Bowie. David Bowie prima di morire aveva visto il... aveva visto il film prima che uscisse, perché, insomma, il figlio era il regista, quindi... Ed è morto per quello. No. No. È cattive. Comunque, sì, sì, l'aveva visto in proiezione privata di Warcraft. Da grande fan di Warcraft. Ah, perché il padre di David Bowie era un fan di Warcraft? No, non lo so. Il figlio sicuramente. Però è uno di quei personaggi che non mi stupirebbe se avesse fatto lo... Sai che aveva fatto lo spot all'epoca anche con Mr. T, Chuck Norris. Mi ci vedo anche lo spot di Warcraft con David Bowie. È un film storico fantasy molto bello di David Bowie che è Labyrinth. Labyrinth. questo volo qua che ti servirà anche per Do per poi la fase prossima. Sì, molto gentile. E a questo punto io non posso aiutarti più. Devi andare a Moongley e devi venire verso Winterspring. Anche Dragonheart è invecchiato se lo guardi oggi, però... Io vado a Winterspring e ci vediamo là. Ok, tu vai a Winterspring mandi quindi io vado... Ma sì, comunque da qui sei un vicino. Da qui sei vicino ma come ti dicevano devi passare per sto cazzo di tunnel degli orsetti che è terribile e il fatto di passare da Moongley probabilmente ti permette di schipparne una parte. Sì, ci muoio comunque sicuro. È probabile. Io andrò in stealth però mi sgamano. No, ti sgamano, devi correre. Ah, ti dici? Sì, mount prima e poi dash con il... Vai in mount quando ti smountano vai subito con la forma... No, ma la mount è impossibile è dentro un dungeon. Eh, ho capito. Appena ti smounta ti dico perché già ce n'è un po' fuori poi appena ti smounta fai il dash col coso e cerchi di arrivare il più in fretta possibile morirai una volta una seconda volta che respawni poi ci arrivi subito ecco. Esatto, quando devi risuscitare risuscita il più in là possibile all'interno. Se poi addirittura ti viene il... procca diciamo così lo spirito di Winterspring a quel punto resti dallo spirito chi se ne frega della sickness e ti vai così. Ah, certo, sì, sì. Va bene. Certo, dovevo pagare un po'. Va bene, sì. Va bene, va bene. L'altro fai occhio che ci sono delle pattuglie quindi se riesci ad aspettare un secondo quando vedi che passa la pattuglia magari riesci anche a più a non beccare alcuni nemici. Ok. Tipo da morto, da spirito poi un controllato. L'Abilin è invecchiato malissimo ma musiche divine dice GameSquit. Chi era già l'attrice che c'era e la bambina? Mi ricordo più. Era un attrice famosa. Ma è possibile Jennifer Connelly? Eh, sì, no, bravo. Jennifer Connelly, esatto. Pensai che non l'ho mai vista mi ricordo i nomi degli attori. Ah, Natalie Portman era in Leon. Stavo confondendo con Leon. Sì. Se sia la prima. Non so perché il classic vero non l'ho mai giocato. La prima volta che ho giocato a WoW era il periodo di Wattlock. Eh, vabbè, ci sta. Nei miei istanti tante persone hanno iniziato a giocare a WoW con Wattlock nel 2008. Ma io anche io ho iniziato pochi mesi prima che uscisse Wattlock. Nel 2007 ho iniziato. Fine. No, anzi, era perché mi ricordo perché l'avevo detto appena finita la scuola e ho andato da Askes e gli avevo detto boh, adesso inizio anch'io WoW è tempo. Non mi ricordavo questa cosa che hai. Sì, sì. Mi ricordo pure che eri con con Vittorio ed era seconda liceo o prima quindi 2008 comunque tipo maggio-giugno 2008. Giugno 2008 vuol dire prima liceo. No, che cazzo dico. Vabbè, non importa sti cazzi. Ma tu già come hai iniziato a giocare a WoW di tua iniziativa? Sei stato indotto da qualcuno. No, allora io ho sempre bazzicato i videogiochi quindi sapevo benissimo che c'era WoW fin da quando era uscito WoW nel 2004. Dopodiché ero troppo piccolo non ho la carta di credito né niente quindi per il primo fai anno e mezzo ho giocato sui privatoni. Dopodiché nel 2007 era uscito poi mi ero fatto un paio di trial sull'offi e nel il 16 gennaio 2007 giorno nel mio compleanno il 16 gennaio esce The Burning Crusade e allora lo compro e inizio ufficialmente sull'offi. C'è poi la cosa assurda che io giocavo già però ero Ali per i cazzi miei da solo su un server inglese da solo e poi quando sei arrivato tu io ho re-rollato e ho iniziato veramente a giocare a WoW eh sì per poi mollare dopo ma perché all'epoca prima di iniziare a WoW noi giocavamo a Guild Wars 1 a Scherzer ti ricordi? mh mh cioè tu soprattutto perché tu hai giocato fin da Prophecies io sono arrivato dopo con Nightfall però sì Nightfall 2006 quindi comunque era prima di WoW io ho giocato un anno a Nightfall e poi sono passato a WoW come sei messo lì? sto tentando in questo momento al momento del fuoco è il momento della verità sì eh sì sì il suo non è ragazzi dobbiamo aspettare Plinius adesso vorrei tanto vedere quello che sta facendo ma possiamo solo evincerlo dal suo puntivo sulla mappa vuoi te lo stream? va bene allora aspettiamo un attimo faccio apri streaming ok ecco il pov di Plini lo vedi? pronti allora confermo che la mappa non serve a niente perché qui dentro mi demonta subito quindi vado in cat form appena vedo i nemici uso il dash yes e cerchi di arrivare il più in fretta possibile a Winterspring grazie grazie e poi gli auguri in bocca grazie crepi ragazzi pov di Plini attenzione roba forte qui eccolo perfetto 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 vai 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 travel form travel form appena finisce il dash non posso non posso ok switch di forma cazzo cazzo per un mille no no ma ti avrebbero ti avrebbero resistito ti avrebbero resistito su un livello teschio ci ho provato comunque io non posso fare la travel form all'interno non puoi fare ok ok sono no non sono eh sei inculato vai vai è lunga è lunga quindi non faccio spirit res no no perché sei a Felwood eh lo so lo so comunque il compleanno di Plini no torniamo mi hanno fatto in bocca al lupo per questa parte comunque chi è che ha scritto ah Easy Peasy ha scritto io l'ho provato a rivedere ma non merita proprio il nostro tempo guardiamoci le cinematiche che sono decisamente meglio ah sei così severo verso il film di wow guarda io ce l'ho ce l'ho salvato devo soltanto decidermi a riguardarlo cioè c'ho il DVD l'U-ray l'U-ray eh sì Nemilis guarda ti capisco perfettamente ci rientro ogni tanto il parcheggio a Kamadan così tanto per Kamadan gioiello di Istan bello bello eh che bella Kamadan gioiello di Istan di Istan allora aspetta si passa di qua no se ma Kamadan Kurna o Vabbi io dovessi dirne una direi eh no sono tutte sono tutte fighissime non riesco a decidere sono le tre regioni di Nightfall Kamadan 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 ragazzi nel mezzo delle montagne tra Moonglade e Darkshore eh scusate giace un piccolo villaggio abitato da un tribù di troll che balla tutto il tempo e noi oggi l'andremo a visitare adesso ed è un luogo nascosto è un luogo nascosto caro scusa mi fai vedere nella mappa dove sei ah ecco mi hai addirittura invitato mentre te lo chiedevo rispondo a GameSquit che dice io continuo a pensare che se devo riniziare WoW Classic vorrei almeno graficamente aggiornato al retail comunque considera allora non è al livello del retail però non è la grafica del vanilla cioè è molto migliorato rispetto al vanilla hanno pure gli RTX sì poi è vero che non è io sulla grafica non posso dire veramente nulla no ha senso quello che dice scusami ha senso quello che dice Easy Peasy che dice più che la grafica vorrei che almeno Rogue non sia un palo ma assomigli più al retail quindi come animazioni intanto grazie mille a Boomersland che è diventato postumano ah no sono arrivati eccolo ok sono arrivati gli abbandi in un'ora minchia una bella laggata mamma mia ragazzi qua altro che server di World of Warcraft allora grazie mille Orko Khan vero massivo postumano asceso e benvenuti a Boomersland Zetatronico Warang19 The Player Channel e PLBC oh benvenuti ragazzi veri massivi postumani grazie mille ancora Orko Khan grandissimo Orko Khan mi sono incaettato un'altra volta direbbe Twitch esatto dato che ci ha messo un'ora per arrivi no comunque grazie mille mi piace molto Boomersland si troverà molto bene sì vero anche secondo me comunque Giacomo una domanda ma sei già stato lì in quel villaggio col volo guarda sono andato con Rince c'è poi un salto da fare io non avevo più lo slow fall perché avevo finito i reagenti mi sono sfracellato ma lui è arrivato quindi tu non ce l'hai il volo sì ce l'ho ce l'ho ah ce l'hai guarda che in squitte le differenze ce ne sono tante non pensare che non ci sia nessuna differenza rispetto all'originale cioè ragazzi questa season of discovery per carità può piacere o non piacere però vi assicuro che è tutt'altro che un progetto pigro tutt'altro che un progetto pigro ma ragazzi è una figata incredibile non ve lo direi lo sapete benissimo che non lo direi se non fosse vero non mi hanno pagato eh sì stardust buonanotte orcocane grazie mille per gli abbonamenti grande grande buonanotte era proprio quello l'obiettivo stardust infatti gli stavo chiedendo ma giusto possiamo usare la sleeping bag se te la sei portata presso se ovvio ovvio beh beh scusami ce l'hai il volo teleporto e friend ce l'hai il volo a everlook no non ce l'ho allora magari ti faccio arrivare lì intanto che aspettiamo il teleporto e friend ce l'hai scusa no usalo certo che ce l'ho è quello che sto per fare basta la sleeping bag basta la sleeping bag comunque livello è un cheat livello tranquillo ecco canna è ancora un mesetto penso prima che inizia la fase 3 puoi fare il 40 vediamo plini come è messo ragazzi ma adesso sto arrivando giusto minchia però sta caverna sta galleria è veramente lunga e secondo me ci muoio 4 volte qua dentro è sotto dove devi andare guarda dove è il cadavere devi scendere e girare scendi giù ok ok perché se vado di là è un'altra cosa no non vai di là di là poi esci e lì dove devi andare dopo quindi di qua tu dici dove andare ok stiamo calmi per riprendere il cadavere è un fottuto un labirinto ecco il cadavere eh sì dovrai desciare di nuovo fare il possibile vuoi il botto di volte eh ho capito ho capito se no questo non lo fai e poi vabbè ma se arrivi a Winterspring poi resti a Winterspring devi solo devi solo arrivare ecco così la text è più bravo bravo dopodiché vado subito adesso vediamo cosa fa Plinia ragazzi un attimo perché se no qua crepo io non è il caso fai fai un secondo alziamo le mani al cielo fate il segno fate il segno della croce vai io lo vedo ho innovato dopo 25 mesi ma non ha detto nulla Twitch guarda non ti preoccupare comunque grazie mille vero massivo post umano grazie di cuore ecco aspetta che aspetta aspetta conviene far passare la roma magari conviene far passare un attimo la patrol però c'ha un agro range infinito e deve andare bella lontana ehm falla andare via tu resti subito ti tiri un regrowth un coso decat form appena lo becchi dash procedi il più possibile sperando di arrivare nella parte di tunnel che già viene contata come winter spring vai allora la cosa positiva è che qui non mi aggra nessuno quindi faccio in tempo curarmi vai vai vado eh sì un passo alla volta una morte alla volta è proprio così dash yes wow che cordello di mamma mia mamma mia che gang mamma mia no vabbè ma è una roba devastante eh devastante però se tutto va bene è l'ultimo questo perché poi quando arrivi sei a sei a winter spring secondo me altre due moetti mi toccano tutte però vabbè considera che poi vai qua prendi il volo per winter spring e ce l'hai già per la fase fino alla fine va bene Giacomo dimmi quando ci sei sto andando sì così anche tu ti prendi il volo e poi intercettiamo Warcraft l'inizio the beginning eh comunque me lo riguardo quel film mi avete fatto venire la voglia dai peccato eh potevano fare un un bel un bel lavoro così non si sarebbero fermati al primo film e invece hanno fatto un lavoraccio e si sono fermati al primo film non terribile però abbastanza mediocre bravo stardust hai fatto bene la sleeping bag ci sta sempre prenderla in fretta mi ricordo che aveva flopato negli Stati Uniti e paradossalmente era andato molto bene in Cina il film perché i cinesi sono fan di wow e quindi diciamo che ok prova un po' la Cina guarda sto uccidendo un mob e lo faccio eh si l'ho detto anch'io che c'è un film il progetto di un film di The Division con Jake Gillenal e Jessica Chastain però rip cancellato le prossime zone che vediamo sono più semplici non occorrerà fare tutto sto bordello a meno che non vogliamo andare a Ijal nel qual caso andiamo da morti e GG che effettivamente ci starebbe infatti ci andiamo perché è subito qua anche se ci andiamo da morti chi se ne frega dopo il grande successo di Assassin's Creed che ha fatto Jack mamma mia che brutto Assassin's Creed no aspetta di chi era Assassin's Creed? Cravo? eh non mi ricordo la regia non ne ho idea eccolo Cravo eccomi comunque sia sempre di Ubisoft bello sto oggetto con Faust Bender con Michael Faust Bender ma non c'era anche Jake no Jake? no ah no quella era Prince of Persia Prince of Persia vieni qua vieni qua che c'è l'evalu sì aspetta sì 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 vengo ho bisogno di un vendor però anche ah non ci sono non ci sono non li abbiamo ancora messi non ci sono non li abbiamo messi li abbiamo rimossi perché tecnicamente dovrà ancora esserci c'erano degli attori famosissimi io ero andato lì perché volevo comprare la recipe delle rune Cloth Bag prima che uscisse la nuova fase e non lo tanto è legato ma gli hanno tanto altro evento vediamo che punto è ancora qua che è c'è Donald Pleasance in Queens of Persia un grandissimo attore un po' sprecato però un grande attore è il dia di Justin Cuezzer mi ricordo che erano belle le musiche di quel film se non sbaglio non me le ricordo le musiche beh Queens of Persia in generale ha delle belle musiche molto arrabbeggianti seguiamo lo streaming di Pliny che si avvicina di nuovo a Timbermowold ah no si avvicina a Timbermowold comunque tra i due prodotti era meglio il film di Queens of Persia che il film di Assassin's Creed era più onesto erano entrambe un po' due cagate però quello di Assassin's Creed era veramente terribile noiosissimo no bruttissimo noiosissimo un attimo che mi ascolto un vocale Preso Persia era una cagata accettabile cioè Preso Persia era una cagata ma una cagata onesta no cioè sapevi di stare guardando comunque un film di così insomma intrattenimento fammi vedere l'animazione della tua mount Giacomo si fammi vedere l'animazione della tua mount questo è rugito io brutto salto all'indietro salto in avanti grazie Elion per le informazioni allora io cerco di restare il più lontano possibile ma devo capire qual è la strada per Winterspring allora se io sono arrivato da qui da lì aspetta che vediamo il tuo streaming si tu che sei io sono arrivato da qui si non è qui non è qui non è qui qui è Felwood devi andare a est devi andare a est andare a est quel tunnel è lì quel tunnel è lì sempre verso est vediamo fin dove posso arrivare qua esatto bom ok vai ok forse vediamo se mi agrano se non mi agrano mi culo non puoi se ne tu corri ho capito ma vorrei anche ok aspetta mi culo figata molto bene molto bene ecco aiuto dash no Dayzed che sfiga di merda dai 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 che finisce tra un secondo è finito no 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 non dargli le spalle perché se no ti continuano a fare Dayzed vai in non so come faccio non dargli le spalle eh vai in obliquo vabbè dai secondo me è l'ultima vediamo release no che sfiga no però potrebbe essere l'ultima cioè questa è l'ultima questa è l'ultima sì con la 5 dell'arco sì cosa niente niente la tua scroll è utilizzabile solo dai maghi credo proprio di sì beh è l'ultima di sfiga che mi ha fatto dash che pazienza che ci vuole ragazzi però è anche vero che stiamo facendo un contenuto ma no ma assolutamente ma assolutamente sì è classes mages mi spiace solo che forse forse questo era da tenere per le prossime volte perché ci stiamo mettendo tanto eh vabbè comunque vediamo se per me è l'ultima se no fatelo voi sì sì no è l'ultima sicuro tranquillo poi vieni qua a Everlook così prendi il flight path e andiamo eh guarda easy peasy sulla serie di fallout abbiamo già parlato ma qua ragazzi abbiamo due cose fantastiche da vedere perché la prima è questo villaggetto dei troll e la seconda è Mount Aizal dove andremo assolutamente anche se ci andiamo da morti perché purtroppo ci sono degli elite livello 60 che lo proteggono vale la pena? ma certo che è la zona più figa del gioco la più importante a livello di lore eh racconta ai nostri autenti cosa succede a Mount Aizal Mount Aizal ragazzi questa zona che è qua ma non è accessibile da nessuna parte è stata poi aggiunta in cataclism tra l'altro facendo una porcheria è la zona a livello di lore è più importante nell'universo di WoW dopo Warcraft 3 perché è dove si svolge la battaglia finale a Mount Aizal dove i Night Elf rinunciano alla loro immortalità dando fuoco al grande albero della vita che viene distrutto da Archimonde il grande titano il cattivo però in cambio ovviamente Archimonde viene sconfitto infatti c'è il cadavere di Archimonde sul grande albero della vita ed è una zona tutta fatta ma poiché era una zona estremamente importante come vi dicevo a livello di lore quando è arrivato il momento di far uscire il gioco gli sviluppatori hanno detto cosa facciamo di questa zona cioè è talmente importante capito che farla diventare una zona come altra a livello di leveling che poi diventa obsoleta e tutto non ce la sentiamo e così rimase chiusa poi però era è fatta mancano solo i mob le quest ma la zona è perfettamente fatta dopo la vediamo con tutti gli asset eccetera dopodiché in Burning Crusade fu aggiunto un ride che si chiamava Camers of Time Battle for Ijal che era praticamente un ride che prendeva le mosse dalla Baturi vivevi la battaglia finale a Ijal nel passato però era un ride cioè era istanziato non era la mappa dell'open world la mappa dell'open world è rimasta chiusa fino a Cataclysm quando l'hanno dovuta aprire per forza perché come vi dicevo prima potendo a quel punto volare in giro non si possono avere queste zone che vediamo adesso perché sono tutte raggiungibili via mount volante però perché dici che hanno fatto una porcheria hanno fatto una porcheria perché l'hanno fatta diventare una zona di leveling come tutte le altre e allora tutto questo tutto questo clamore no? cioè io ricordo quando giocavamo che dicevamo minchia chissà Ijal che robe sarà no? non potrà essere una zona come le altre e poi esattamente una zona come le altre quindi a quel punto la potevano far uscire subito no? e non c'era non c'era il mistero tra virgolette quindi hanno fatto proprio una porcheria secondo me con Ijal in Cataclysm come l'hanno resa l'hanno desacralizzata l'hanno desacralizzata l'hanno desacralizzata esatto l'hanno fatta diventare una zona di leveling tra l'altro anche subito perché mi pare che sia una delle prime dove vai quando livelli a Cataclysm è una cosa che è successa anche con il Signore degli Anelli e gg tutta la magia si è persa in questo modo il marketing comanda su tutto ah cazzo mi sono calato mi sono calato una pozione supersonica per sbaglio eri pensa il riflesso l'ho bindato dove avevo bindato la mount su GV sono un coglione tu dici bindati la mount dove ce l'avevi bindata su GV vediamo in che situazione Plini certo sto arrivando adesso in camera ma infatti perché non hai fatto così ma guarda non lo so no io i miei bind sono diversi ma io devo dire che su GV2 devi considerare che su GV2 sono tante mount hai tipo 6 mount esatto bravo uno e secondo me è più importante su GV avere la mount bindata che non su su GV2 è fondamentale perché è instant esatto è il grifone d'accordo come si chiama lo sky sky il shift barra spaziatrice su GV2 anche io il mio control barra spaziatrice dove ho lo sky sky e qua c'ho la pozza porco dai che ci sei Plini dai che ci sei ormai sei arrivato dove deve andare Plini a che fly devo andare a winter spring questo è in mezzo alle balle vediamo fin dove posso restare se io vado dai dai tu vai subito in cat form sprinti e esci sei a posto non è che mi sta guardando vai vai ma chi se ne vai vai sprint subito cat form instant e neanche mi insegua GG discovered winter spring perfetto devi arrivare dove siamo noi a Everluco vai pure sulla mount segui la strada se segui pedissequamente la strada appena la andiamo agli incontro eh no perché voglio che prenda il volo perché poi gli serve di nuovo eh poi poi torniamo qua ok no perché una volta che andiamo all'area lì non si torna più indietro dove rifarci il portale è tutto già no ma io dico di andare incontro a Plinio non si può andare ah vabbè ok andiamo incontro però poi dobbiamo comunque tornare a Everlook eh vabbè che bella le impronte della tua mount eh ragazzo mio io ho detto che prendevo la tigre per un motivo eh eh ma hai sbagliato io ho preso la cinta no ma a me la cinta non mi serve un cazzo non mi serve ma scusate eh cioè va bene che ha delle belle impronte la mount di Askez ma è l'unica mount che lascia impronte no no la mia la tua vola la tua vola o c'ho la grafica a livello merda beh non sei sulla neve in questo momento beh non è vero questa è neve questa è neve e tu non lasci le impronte o hai le opzioni settate a merda ma io sono adesso vabbè vieni verso di noi vediamo se noi le vediamo le tue tu Cravo le vedi le impronte e la tua mount si e allora è un problema mio adesso scopro che da sei mesi sto giocando con la grafica medda certo certo io l'ho messa al massimo lol farebbero si cae molto questa cosa anche perchè io faccio centinaia di screenshot se c'ho la grafica medda non è il massimo hai visto Cravo ci segue uno yeti l'ho visto eh lui ci metterà un po' per disagrarci il ritorno però per fortuna è lento sei andato sì sì ah forse l'RTX l'avevo disattivato vabbè ma le impronte non sono certe RTX neanch'io ce l'ho attivo l'RTX ok ok no è che l'RTX mi ricordo che creava delle qualco non mi ricordo comunque le impronte giustamente non è quello ci siamo? sì ecco occhio a quel gigantesco mob quello non ci molla più quello tragedia infatti aspettiamo un plin non vedo niente con queste fronde in faccia ragazzi il posto dove vi porto adesso è una roba clamorosa ve lo dico è clamoroso è clamoroso ci sono un paio di saltini bastardi da fare ma ne vale la pena tutta la vita ecco buonasera buonasera vieni qua fai le impronte qua no non fai le impronte il codo non fa le impronte ma questa è una cosa incredibile dovrebbe essere il contrario e no perché al piede è talmente grosso che non fa le impronte il codo più buono è pesante come un dinosauro un t-rex il codo andiamo andiamo e no perché ha una superficie talmente larga distribuisce il peso è come gli insetti che camminano sull'acqua esatto gli sviluppatori odio i tauren già che a under city non puoi entrare devi demontare sennò non entri dentro l'ascensore tu le vedi le nostre impronte no? si non è una grafica bassa vabbè ask se devo pigliare pure io la tua mount solo che devi fare ma eh stangleton eh prendi un'altra mount hord magari troppi quella dentro l'american minchia se la droppa quella te la pago tutti i gold che ho se la droppa la nido cioè non posso stare con una mount seguite la strada non posso stare con una mount che non fa impronte comunque segui le orme vabbè considera il fatto che prima che tornerai a winter spring ne passerà di tempo eh vabbè ho capito fase 3 magari c'è qualche zona innevata no? forse a tanaris effettivamente lasci le impronte sulla sabbia beh però è perfetto per non farsi inseguire dagli allies questo è molto vero lol comunque mi ricordo padre peggola dice ricordo quando il raid di mount yale ha bugato e i boss usavano solo l'auto attack senza le skill lol devo dire che io questo non me lo ricordo eh vabbè sei venuto dopo eh probabilmente mount yale l'ho iniziato a raidare che era già fixato effettivamente ok prenditi il volo plini benvenuto a everlook poi dobbiamo tornare di nuovo indietro e finalmente ci siamo minchia ma ci credi se dico che io mi ricordo quando livellavo questa zona ma non su wow classic ma poi su wow vanilla eh ci credo perché quella è alta per wow classic mi ricordo che c'era un botto c'era un botto di quest qua ever spring ever look side quest patch quest la winter spring è dove molti arrivano al 60 di fatto siamo postati a un botto di tempo qua mi ricordo in realtà non lo ricordo con grande piacere perché era abbastanza un periodo di stanchezza guarda lo faccio col bob in discesa ah devo salire no no segui la strada dobbiamo tornare al coso al tunnel è strano non so perché nessuno di noi sa perché non ci siano le impronte ma guarda che è una roba ragazzi è solo la lauma incredibile da bestemmi cioè è una dimenticazione cioè magari è voluto però mi sembra davvero assurdo davvero assurda ma non ha senso che sia voluto cioè ma poi dico fai le mountain cioè le farai tutte insieme un giorno fai cioè nel senso ci avrà messo un mese per uno un mese per l'altro e mancherà decalcomania improntecodo punto jpg punto png non c'è non l'hanno fatto veramente assurdo magari hanno licenziato lo sviluppatore poi che mentre lo stava facendo ha dato il casino che si trova blizzard esatto lui ha messo ha cancellato un po' di righe di codice a tradimento no? e nessuno sa quali sono e non ha mai più funzionato e quindi con tutti licenziamenti che ci sono stati dentro blizzard non sarebbe niente di così assurdo guarda allora ragazzi ci siamo e finalmente qua veramente abbiamo perso un sacco di tempo e me ne scuso ma finalmente ora ci siamo e dobbiamo andare esattamente dove era prima Plini quindi di fianco al tunnel arrivo la zona che vedrete adesso è una zona veramente interessante perché è tutta fatta però non ci si può andare e allora noi cominciamo si è questo sia qua che è un priest un priest no 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 lascialo stare poverino ah si si bravo bravo volevo solo un po' di interazione certo certo esatto non l'ha fatto apposta nella speranza di essere riassunto per reinserirla esatto ti prego torna il codon ma le impronte è tipo Chris Madsen che blizzard l'ha pregata in ginocchio di tornare wow retail avete visto la notizia che wow classic ha avuto un successo tale che hanno aumentato il team aumentano il team assumono gente e può sviluppare i contenuti per fare le impronte del codo bravo finalmente sarebbe bello guarda ci spero ah guarda che belle impronte che lascio ah guarda che belle impronte che lascio vai pieno di mob dov'è la stradina che porta al timber Mau prova a saltare sulla neve è fatto bene è fatto bene ah lo sbughi tu dici oh ma effettivamente no sono le mie sono le mie ah fanculo no 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 il cazzo il cazzo c'è qualcosa qualcosa ma per un attimo per un attimo quando salti per un attimo quando salta vuol dire che il codo è leggerissimo e non lascia le impronte solo quando atterra pazzesco guarda che roba vuol dire che levita ma questa cosa è ancora più incredibile incredibile questa cosa assurda se passate sopra non si vede però adesso no 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 fai un salto eccolo eccolo guarda all'indietro scusa cammina all'indietro no niente ragazzi andiamo non so cosa dire stranissimo stranissimo comunque è un vero mistero sì misteri di wow lascia i cerchi come sì è la coda è la coda dice stai d'assi bo siete carichi qua da veri scalatori delle hande ve la hypo questa roba ve la hypo di brutto vabbè ragazzi beh in realtà stasera abbiamo detto live dedicato ai misteri di wow questo è uno dei misteri di wow bravo bravo esatto di wow classic guarda forza scusa vabbè non ci fissiamo beh però adesso hai le impronte anche tu sì quando devo saltare ogni volta ragazzi ci siamo siamo al posto questo è il posto this is the place this must be the place davanti al coso dei winter mao dei 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 degli orsetti ok qua se parlo con salfa non parlare con nessuno vieni qua mai parlare con nessuno allora qua c'è il salto da fare ok ah difficile l'ho fatto senza neanche saltare anche io vabbè onesto ok e adesso inizia la parte che devo un attimo capire allora dove si va nella lesser speed Giacomo che ci ha consentito è bravissimo certo io non ce l'ho non vi bugate oh aspettate che sto cercando di seguire intanto anche dal video sì sì nel frattempo io metto un po' di buff no non mette va bene ok no no mica la velocità ok venite qua dove sono io dove sono io che c'è da fare una roba qui aspetta aspetta secondo me non le hanno inserite perché abbia dovuto mettere la traccia dei pneumatici pirelli eh sono molto super soft super pesanti sono ragazzi qua salto e poi multiplo salto oh merda qua qua non è semplicissimo puoi saltare in su ecco lì più o meno dove è Plini esatto dove è Cravo saltate in su per un cazzo eh lo so lo so ci siete ci siete ci siete siamo in area bughina manca Plini eh ma non dentro la pianta guarda su in alto cerca di andare su anche senza saltare secondo me eh ma la mia mount animazioni diverse ragazzi adesso ci provo usa vai a piedi beh ok però a piedi sono più lento però venire un po' più verso fuori posso venire a prenderti secondo me perché anch'io stavo sbagliando all'inizio se no Giacomo di nuovo fa il mind control come prima no devi venire semplicemente un po' più esterno ecco ok io c'è devo dentro la pianta un attimo oh qua siamo proprio nelle nelle montagne più inesplorate ho scoperto felwood oh ragazzi qua attenzione perché è un pezzo difficile andate in prima persona qua andate in prima persona oltre il crinale se no non vedete un cazzo e vi schiantate giù occhio qua non cadere occhio non cadere si vede madonna ok 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 dritti nei nebbiosi monti gelati in antri oscuri e desolati ok riconosco questa zona perché mi ricordo di esserci passato con rins quando siamo venuti qua un attimo che devo vedere dove si va bello e si deve scendere e poi risalire è qui ah sì adesso adesso c'è il saltino da fare occhio a non cadere qui che buggeronis ok per un pelo guardate qua c'è l'albero che si vede sotto no l'albero della vita l'albero madre ok qua c'è tipo forse l'unico salto un pochettino complicato che c'è da fare è questo affare qua purtroppo è un po' merdoso è un po' merdoso qui ho provato con la mount secondo me è meglio provare a piedi Plin ce l'ha fatta subito incredibile forse è perché è meglio bravo bravo ok è difficile non è così semplice vedi ok cazzo ce l'ho riuscita appena ci sono riuscita prova lievemente in obliquo ma guarda non è così difficile ce la sto facendo persino io ok sono un po' i jumping puzzle di wow un attimo perché devo capire adesso dove andare noi su gv2 ci divertivamo a fare i jumping puzzle è forse una delle cose più originali più fresche del gioco no possiamo dire anche perché ah no aspettate siete già andati avanti no ok no perché effettivamente forse non è di qua un attimo aspettatemi qua fatemi controllare una cosa arrivo subito ma si ripeto vai tranquillo perché qua è difficile è difficile stavamo parlando ai jumping puzzle su gv2 che sono pochissimi gli mmo che danno questi contenuti no jumping puzzle allora un attimo perché ma emberai nel frattempo è sempre su pacific drive ho appena chiuso perché fra poco andrò a provare una mod di dark souls 3 ecco di le nostre venite qua da me scusatemi ragazzi aspettate che vi vengo a prendere dovete tornare indietro vi ho fatto fare un salto inutile vabbè vi siete schillati comunque ragazzi è uscita una mod enorme da dark souls 3 in realtà non è ancora una mod completa è solo una demo però comunque c'è abbastanza contenuto per tornare da te dobbiamo saltare dove? eh non so se riesco a raggiungervi perché mi sei che ho fatto un salto da quelli di cui poi non si torna più indietro te lo dico dallo streaming a chi interessa si chiama dark souls dark souls basta scendere qua dark souls come si chiama? poi salite qui occhio a questo salto che potete rimanere bugati occhio a questo salto che potete rimanere bugati la vedo la texture baggerosa ok ottimo c'è pure la musica qua è la musica di thunder bluff tipo si è la musica di thunder bluff ok ci stiamo avvicinando al posto io non ho guardate dove siamo ragazzi nella mappa siamo esattamente tra tre zone siamo esattamente tra quattro zone addirittura siamo al confine tra quattro zone fondamentale io vedo moonglaid qui se no tranquillo 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 tanto comunque dovremmo scendere immagino qui se tiri lo sciacquone non sai più da che parte gira l'acqua è bravissimo esatto si bugga tutto io sono andato giù si si va bene va bene non è un problema c'è una texture buggerosa la vedo anche a voi vi vedete a moonglaid anche voi ok si 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 andiamo ok occhio a quella text vabbè ci sei ci sei zio comunque hai ragione Cravo è la musica di moonglaid ah ok scendo perfetto ok quindi è solo questione di procedere di qua pensa il primo che ha scoperto questa cosa bello questa con la luna luna piena bello eh ragazzi ma adesso vedrete adesso è ancora più figo un attimo che devo capire solo dove scendere se qui o là perché voglio farvi vedere anche c'è il laghetto che è fighissimo eh scendere una piena beh qua è a destra o a sinistra eh qua immagino che bisogna poi buttarsi giù esatto standard standard certo ah ecco gamesquitter li odiavo su G2 eh vabbè almeno era un po' diversa quando mai un MMORPG ti mette dei jumping puzzle allora qua ragazzi morirete stiamo calmi no io posso volare tu puoi fare slow fall io posso prendere il l'aliante quello che si chiama su G2 è il non so dove sei andato sono sceso subito qua adesso mi fermo e mi vedi mi vedi meglio ok io mi butto e ci muoio cerca di colpire sì intanto vado in forma di gatto che ho danni ridotti eccomi ah c'ha slow fall caravo benissimo sì ti possiamo anche arrestare l'importante è che non non finisci in un posto che non possiamo raggiungere eh beh ci provo che cazzo ne so sì sì infatti aspetto un attimo perché io ho un tool qua che effettivamente non ho non uso mai quindi intanto feline grace reduces damage from falling sì c'è felino o feline in inglese feline feline felino si dice felino grazie a felina felino io confermo perché c'è un gatto in casa io ragazzi vi saluterei ehi bello è stato un piacere averti qui con noi divertiti su dyxos 3 grazie mille voi buona siete già arrivati ad iger o no? siamo in buona buona scalata di iger grazie mille un saluto a tutto il pubblico dire il mio buona serata e bravi ci vediamo i prossimi giorni ciao ciao allora vedo il tuo streaming niente ma sì buttati sprinta e buttati il più lontano possibile cazzo mi hai detto troppo tal uh meno male uh meno male è spettaculiale bene ok non preoccuparti tanto se muori adesso sei restabile lì da questo salto in poi tipico anche un rejuvenation vai vieni vieni dove siete voi subito sotto qua non ci vedi perché c'è una segui il tronco ah vado esatto sì sì buttati contro il tronco non lo vedo il tronco però madonna ok perfetto uh che culo va bene perfetto meglio del previsto ragazzi roba forte è questa roba forte no il mago può allentare eccolo purtroppo guardate guardate qua dove siamo guardate la luna piena guardate che cazzo di posto guarda la scopa e volai di sotto ragazzi sì sì ma adesso guarda non avessi sto alone verde disgustoso non te lo puoi togliere sì devo togliere un pezzo di equip eh vabbè adesso dobbiamo trovare un posto migliore dove scendere ma ragazzi dovete sapere che cravo puzza true lock non puzzo più ho torto la giacca che puzzavo oh ti sei fatta una doccia finalmente sì sì era uno shampoo doccia e via vabbè niente ragazzi qua è questione semplicemente di buttarsi giù prima di andare con calma a vedere se Plini non muore vai tu per primo Plini ma posso andare io che blinco eh lo so ma il problema è che poi se Plini crepa bisogna raggiungerlo per restarlo va bene non potete scendere sì io posso vabbè vado io eh dipende però dove finisce il cadavere perché qua è tutto terreno estremamente scosceso e merdoso se non hai ma scusa qui c'è una terrazza se si butta su questa terrazza qua sotto secondo me non muore di full damage secondo me cade giù ci provo dai su quella terrazza rip come si dice una cura cazzo sono andato per sbaglio rip incredibile è sopravvissuto beh hai dimostrato che si può fare sì comunque è vero si buga ti cadi senza volerlo anch'io non voglio sì basta un movimento e vabbè sono vivo cura tu ci dai le cure ti curo grazie no mi passi l'acqua vabbè che non stiamo facendo dungeon però no infatti vabbè vabbè non ce l'ho cari scalatori è veramente un piacere godere di questo contenuto con voi altri e di qua di lì non ci muoio secondo me possiamo scendere qua sì anche e poi giù scusate io ho blinkato nel dubbio un trucco bestia ok ok no niente di grave che era mandato in evanscopè che culo oh qui si muore no non si muore levitate curiamoci guardali eccoci al villaggetto dei troll danzanti ragazzi ci posso parlare ma che cazzo questo è questa è roba forte guardate dove siamo sulla mappa ma parlano anche incredibile ragazzi momento screenshot vedi tutti qui tutti qui o dove volete voi insomma vi ho condotto bene ragazzi vi ho condotto bene questo è un bel posto perché è il posto che vedi quando prendi il volo da moon glade io spesso ah ok ok non sapevo che c'era un volo che potevi vedere ho capito io da druido ho il volo feto gratuitamente da moon glade a thunderbuff e passati sempre di qua qua ho letto che su cataclism sono state aggiunte tipo due o tre quest poi ma devi entrarci sempre in modo buggerino no no ovviamente no perché a quel punto è la mount volante tutto è stato rifatto sono molto contento bello bello datemi un attimo che devo soffrire il naso scusate questo è questo è fighissimo questo è uno dei posti più belli e tra l'altro qua si vede che volevano fare qualcosa perché se vieni Cravo ad esempio qua dove sono io o Plini anche noterete che anche gli interni hanno un qualche dettaglio quindi qui è palese qui è palese che volevano farci qualcosa volevano sicuramente farci qualcosa è fatta troppo bene questa zona ma poi ballano la capoeira cioè eh sì perché i troll sono tipo giamaicani sì ma i giamaicani non so se ballano non sono i brasiliani che fanno capoeira giamaicani brasiliani siamo lì questa sera streaming di qualità eccezionale bella questa grottina qua non so se hai visto la chat chat invisibilio molto figo molto figo molto figo ragazzi bel contenuto ah no ma qui sicuro ci mettevano delle quest eh sì questo è quello che in jago si chiama il cat content questo è proprio cat content come sabaco di parlare ma io mi immagino il primo che si è messo lì a cercare di bugare passa di qua passa di là e sbuca qui ma cioè pensa di aver scoperto un segreto devastante di trovare l'oggetto ultra epico leggendario poi non trova un cazzo ma è comunque contento io ho appena visto uno che passava col volo è un attimo fa sì ma qui è pieno cioè tutti i druidi che vanno a thunderbuff passano secondo me se saliamo su questa roccia li vediamo che passano col volo stigata arrivo il crinale aspetta un attimo che voglio vedere anche c'era anche se avessimo saltato meglio io purtroppo ho sbagliato la prossima volta salto dall'altra parte si arriva sopra la cascata non c'è niente però un po' più carino diciamo sì dunque Tex l'ha detto Askez in Cataclysm hanno messo delle quest qua però Cataclysm hanno cambiato tutto raga cioè è un altro gioco nel senso anche Stontalon Mountijal tutto diverso e se uno pesca qua prova a vedere cosa ti esce penso sia robe di Darkshore quindi basso livello secondo me è contento come Darkshore magari esce un bel pesce epico leggendario no no dove si va a farmare è dietro la cascata di Stormwind dove c'è una pozza di pesci che si resetta ogni secondo che droppa Peace Bloom un'erba non si sa per quale motivo e quella si farma lì una volta che andiamo poi lì però lì bisogna avere la mount 100% per accedere però io lo stesso farò un tentativo più avanti la mount 100% scusami eh sì sì però lo stesso io voglio provare a fare un tentativo bella qui c'è ovvio la casupola sì beh questa zona è fully developed cioè completamente sviluppata completamente sviluppata vediamo cosa c'è sott'acqua probabilmente l'hanno fatto in tempo ad aggiungere delle quest all'epoca c'è perfino qualche dettaglio sott'acqua con dei tronchi quindi è evidente che qua fosse tutto pronto ma semplicemente è stato poi tagliato più classico cat content come ci sono nei souls che a volte li restaurano con le patch no? certo questa è bellissima questa zona poi è proprio bella al di là del fatto che è bella assolutamente guardate tenete gli occhi al cielo e vedrete un bel po' di druidi come me che volano io ero ma è è una piena è incredibile dove la si è particolarmente pittoresca pittoresca caratteristica ok ragazzi dove è la luna piena non la vedo ci vedeva prima delle montagne si prima si vedeva ho fatto un po' di screenshot ma sono molto contento del fatto che lo stiamo immortalando per l'eternità questo momento in streaming puoi dirlo forte ragazzi momenti dove siete giù si volevo vedere questa casupola che non l'ho ancora guardata ma no forse sono già stato sì e vedi che c'è c'è anche un named unagiro unagiro questa tipa c'ha il nome proprio quindi è chiaramente un npc che è stato non è un generico npc capito è un npc con un nome questo era probabilmente il giver il quest giver forse questa era a giudicare dalla schiena era la la inn questa doveva essere la inn certo in questo navi esatto e eccoti in emilis guarda siamo appena sbucati in questa zona qui vicino a moonglade ed è bellissima perché è interamente sviluppata questa zona segreta mai aperta al pubblico ma interamente disegnata con tanto dnpc e dettagli negli interni e cose del genere grazie mille intanto è Ray che è diventato postumano grande grande king vero massivo postumano grazie mille di cuore Ray i soldi ci sono arriveranno con un bonifico il prima possibile non so se conosci il meme no non conosco il meme eh vabbè è un meme è il meme del gallelli no mape due parole mape group ok la storia del pae ma i tempi del presidente ah ok 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 eh poi prossima volta che ci vediamo ti racconto perché lì è una galleria di meme incredibile io l'ho scoperto esatto caravo bravissimo porta al tuo orgrimmer per favore io l'ho scoperto qua vieni Plini si aspettate sto guardando l'in dove si ah ok si è dall'altra parte siamo qua davanti a te si 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 comunque prossima volta ricordami ti racconto il mape group perché c'è un universo perfetto a questo posto fantastico 3 2 1 via ok il mape bene ragazzi ora inizia ora ora andiamo al piatto veramente forte il piatto delizioso della giornata il piatto fortissimo Mount Ijal minchia qui si decide l'alloy dell'universo e a Mount Ijal ci dovremmo andare da morti purtroppo perché da vivi non so proprio come raggiungerlo con tutti quegli NPC livello 60 elite ma scusate scusate la cosa ma cos'è questo no no dobbiamo prendere il volo per Winterspring ah quindi bisogna muoversi cioè nel senso perché cosa stai dicendo stavo chiedendo una cosa dimmi c'è un mural of Tazzo sì quello serve ai maghi non ti preoccupare ah ok se lo uso non succede niente no no grazie grazie quindi volo per Winterspring eh sì bisogna tornare la Winterspring ok quello che ho appena ho sbloccato ragazzi siete caldi per Mount Ijal Mount Ijal è roba forte è fortissima proprio Mount Ijal si decide il futuro di Warcraft dov'è il buon Cravo guarda mi sto svuotando le bag che è una roba che mi fa impazzire aspettiamo Cravo un secondo così vogliamo insieme io ho 36 slot liberi devo dire no ma partite vabbè ehm Winter Spring vabbè aspettiamo oddio ho venduto i pesci che non dovevo anche perché voglio commentare perché il volo adesso vedrete un'altra cosa interessante il volo che prenderemo adesso per arrivare direttamente a Winterspring è palesemente un'aggiunta posticcia cioè a un certo tutta la zona di Winterspring è stata una delle ultime che hanno aggiunto a un sacco di problemi e nota nell'ambiente il volo che prenderemo adesso ci fa passare in dei posti che sono al limite del no clip ok aspettate poi andiamola assieme la mouse sì sì infatti infatti stiamo aspettando anche Cravo apposta per questa ragione ok ok perché vedrete proprio come questo volo è palesemente stato aggiunto alla fine perché doveva esserci un volo fondamentalmente certo arrivo arrivo naturalmente hanno fatto meglio la zona che abbiamo visto prima del volo qua sì 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 lo vedrai lo vedrai adesso è proprio assurdo sto volo ma che cazzo è un contenuto esclusivo un contenuto esclusivo sì sì poi su youtube lo taglio facciamo vedere solo i posti mi viene un bel video anche certo senza tempi morti eccoci pronti quindi si va da dove arrivi aspetta aspetta sì sì dobbiamo andare a Everlook Winterspring ditemi quando ci siete sì io ci sono 3 2 2 1 perfetti direi cazzo siamo davanti siamo sovrapposti che bruttore ho detto proprio 3 2 eh l'hai fatto un attimo prima però un po' di lag un millesimo di secondo prima sì no solo internet di veloce ah quanti millisecondi di lag hai non ce l'ho aperta come si apre in basso a destra dovresti vederlo su Elway io ho 25 millisecondi 25 ah hai ragione eh ma io io ho 27 io ho 29 ma è perché sto streamando ed è anche perché ma tu c'hai la fine c'hai la power file power no no adesso è incavo vero da uomo ti è arrivato sì sì beh meno male io dovevo stare indietro per non impuzzarvi e invece e invece si arriva tutto tutto il viaggio tutto il fettore di Krulok guarda che cazzo d'immagine senti che puzza sì ah che bella la musica di Asha scappano anche gli undead esatto la più bella di tutte scappano gli undead allora adesso per adesso tutto ok no Azshara sembra un volo normale adesso guardate però però voi vi ricordate che Winterspring è una zona molto alta quindi iniziamo già a porci questo problema guardate davanti a voi ci sono delle scogliere davanti delle montagne altissime le vedete sì dove io ti ho visto bravo esattamente infatti si arriva lì esatto il volo passa nel punto da cui mi hai visto buttarmi e allora uno inizia a chiedersi ma com'è possibile che questo volo arrivi così in alto se siamo a metà di Azshara adesso e dobbiamo salire ancora di tipo 8 chilometri no e adesso vedrete all'improvviso fa un'impennata senza senso adesso vedrete oh abbiamo un nuovo aspetta un attimo che bello questa zona un bello screenshot qua vabbè poi ci andiamo a livellare più avanti sì fase 3 beh oddio la Azshara diciamo che è inutile 4 sì non si va quasi mai allora invito un nuovo Gildano ecco continuiamo a non guadagnare altezza ma io devo arrivare sulla cima della montagna e passo guarda nella valle scavata no quindi come ci salgo benvenuto benvenuto intanto a Motaro grande Motaro seguirà un fianco della montagna sì esatto fa così è praticamente la compenetra la nostra piccola Gilda crash ottimo ah la compenetra cioè non è fatto eh no vedrai che a un certo punto c'è un'ala del un'ala del del Wind Rider finisce nelle texture vabbè questo volo dovrebbe costare molto di più comunque effettivamente mi vuoletta vedere Cravoved perché ogni volta mi sembra che devo curarlo che devo fargli core poison mi sembra avvenato sì core poison esatto eh sì ogni volta gli faccio core poison poi penso che non lo è tu devi solo immaginare che io invece sono irradiated esatto no perché poi perché poi Askez mi rimprovera se invece uno c'ha la poison e io non gliela curo quindi capisci che devo disabili mi devo devo disimparare ciò che ho imparato non ho capito eh sì certo esatto sì 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 è chiaro qua Cravo praticamente piccola 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 retroscena c'è questo oggetto che si droppa da gnome Regan che ti porta ovunque in giro per il mondo in dei posti come dire carini uno di questi posti è la sommità qua di dove adesso passeremo se ti ricordi Cravo quando io mi sono buttato da quella sommità e ho fatto lo slow fall abbiamo visto che qua c'erano delle cascate delle robe e non capivamo perché il motivo è perché ci passi con il volo guardate qua guardate queste texture adesso qua inizia il mega buggone guardate sembra di essere in zona no clip guardate sto volo quanto fa cagare quanto l'hanno l'hanno messo lì posticciamente eccolo che la Windrider si bugga vedi vabbè dai eh no no ho capito però si vede no si vede qua è da dove mi sono buttato io avrei messo un'animazione di piccole pietruzze che cadono giù si in un gioco odienno lo farebbero ma tra l'altro lo sai che io sto guardando lo streaming e dallo streaming siamo leggermente più distaccati io e te nel mio gioco io e te siamo letteralmente sovrapposti anche nel mio cioè se voi ti facciano uno screenshot siamo proprio sovrapposti è perfetto quello di Giacomo invece quello di Giacomo si è perfetto è vero è vero meno male che sta però io ce l'ho come dici tu Plini nel mio meno male che sta streamingando lui infatti cioè ma infetto pure le ali pure il grifone verde è una roba che è schifo si si tu contavano tutto ciò che ti circonda un contore come avrebbe detto Manzoni peccato eh che cioè sto verde qua è proprio brutto fosse stato un viola non so è che vede si confonde letteralmente lo stesso colore del poison però è anche vero che se lo mettevano rosa o viola diventava troppo esclusivo cioè tu perché hai sta cosa cos'hai vinto? no no ma anche tu ce l'avrai quando prendi l'ultimo pezzo è il set tre pezzi di set irradiated ah si capisco certo e non sarai contento poi saremo in due ad essere verdi tra l'altro come se fossi nato a Chernobyl certo sei radioattivo ok ragazzi qua purtroppo dobbiamo morire non c'è un modo semplice per dirlo non farlo un vede magari di un sfumatore un po' diverso riassumo per chi fosse arrivato adesso questa è probabilmente l'ultima zona che vediamo oggi poi facciamo un altro streaming dedicato agli Eastern Kingdoms ah ok ma scusa domanda ma ci si può provare senza morire? cioè qual è il punto di raccoglio? io e Rins ci abbiamo messo venti ore e abbiamo desistito no no te lo dico no no ma non puoi basta chi m'era? ci sono i mob elite livello 60 quindi moriamo? però io ho Blink ho Blink Blink allora tu puoi provare ok il problema è che poi quando muori resti a Everlook e devi rifarti tutta la cazzo di strada a piedi quindi è meglio farlo una volta sola ma quindi lo vediamo in bianco e nero per forza purtroppo dobbiamo vederlo in bianco e nero per forza ma un Warlock ti poteva fare la roba addosso che non schiattavi? sì ma ne deve fare tipo 4 o 5 perché ci sono sono dei passaggi obbligati sono delle caverne dentro le quali ci sono dei mob ok ma io dico se il Warlock ti fa la cosa lì la Soulstone esatto e tu schiatti sì ho capito poi resto uso la Soulstone vado nella caverna dopo c'è un altro mob mi uccide e io sono da capo no no ma tu quando usi la Soulstone ti resta il cadavere non ti resta dove stai con lo spirito no ho capito mi resta il cadavere ma muoio subito dopo comunque sì sì no io dicevo se ti restava lo spirito ti spostai con lo spirito ovviamente era una roba troppo sgravata venite venite che ci aspetta una piccola sfacchinata purtroppo Isal la dobbiamo vedere così in fase 2 perché siamo a livello che siamo poi una volta che saremo a livello massimo ci andiamo a vederle in tutta la sua gloria sì arrivo qua ragazzi Mount Isal è una roba pazzesca ovviamente però ci sta vederle in bianco e nero perché così ti tieni la voglia di andare poi dopo è come se fosse una scelta registica tanti film sono in bianco e nero pensa anche Memento in bianco e nero quante scene insomma ragazzi siamo ci improvvisiamo registi regista di merda Menefreghista regia ha detto regista di merda o fascista comunque stasera Twitch è con me è particolarmente antipatico continuo a propormi di smettere di followare MMOit ah bello ma non lo so cioè continuo mi arriva il messaggio smetti di seguire MMOit e io no no non te l'ho mai detto perché vi aspetto sulla strada spiritelli infatti ho aggiornato boh ho aggiornato la pagina perché si vede che si è abbuggato fatto 25.000 honor cravo dovrei essere first sergeant ma ciavolo io non l'ho più fatto sono a 23.500 ma non dovresti perdere nulla dici speriamo ma no mi si è abbuggato la pagina mi si è abbuggato Twitch scusate tipo è rimasto in memoria sul tasto che premi per unfolloware perché io avevo mouse overato cioè ho passato sopra quel mouse avevo passato sopra quell'icona col mouse e si è abbuggato e continuavo a chiedermi di unfolloware vabbè ci sono sono dietro io cari spiriti spiriti potenti vi invochiamo vegliate su di noi che stasera camminiamo esatto che stasera camminiamo eh abbiamo camminato molto stasera letteralmente un walking simulator dai abbiamo visto delle robe delle robe io ho la canna da pescare mica una critica però stasera abbiamo giocato un walking simulator ma voglio dire tu lo sai che a me piacciono un walking simulator io ho il massimo rispetto per giochi come The Arrest What Remains of Edith Finch Gone Home me ne sono giocati non dico tutti però allora l'accesso a Mountijal è in un posto bugherino dove c'è la D di Dark Whisper Gorge ok questo sappiatelo ma nel senso la pubblicità la D di Dark Whisper Gorge che cos'è la D la lettera D ah io pensavo la D c'è la pubblicità no 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 la lettera D di Dark Whisper Gorge se non ce l'avete adesso lo scoprite e vedete dove è la D bello bello qua non li vediamo ma già ci sarebbero ci sono una serie di mob elite tra il 58 e il 60 che purtroppo precludono la possibilità di accedere al momento per noi bene ragazzi ci siamo quasi adesso vedi Cravo qua è un passaggio obbligato no quindi ogni volta che c'è una strozzatura di questo tipo c'hai mob quindi non puoi fare il giochetto che dicevi tu o meglio lo puoi fare però muori tipo 500 volte ogni volta devi restare allo spirito da Everlu che è tornare giù qui è una follia devastante ogni volta devi restare allo spirito potente esatto non so se c'è veniremo con due pozioni una di velocità l'altra di invisibilità ma io allora ho pensato anche io alla pozione dell'invisibilità ti dico allora sì se voi ci possiamo no perché no per me possiamo provarci solo non lo faccio durante lo streaming perché se va male poi ci mettiamo torre va tutto a troia però sì la pozione invisibilità l'ho pensata anch'io l'unico dubbio è qua però al momento c'è solo la lesser dura pochissimo non so se la lesser sia una questione di livello cioè che i mob si si o solo di durata sì no 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 è anche diciamo percentuale di invisibilità ma poi il discorso dello stealth e dell'invisibilità è che è commisurato a livello tra chi guarda e chi si nasconde per cui comunque c'è un agro range gigante lo stesso a sinistra quelle caverne eh niente no dobbiamo andare adesso sono altre caverne qua è una zona dove si farma sono sicuramente delle quest adesso non mi ricordo esattamente cosa si fa conosco neanche se l'ho mai fatto francamente poi da griscia mi sa che sono problemi tuoi perché a noi funziona benissimo la live io la sto guardando la sto guardando sul secondo monitor e non buffera grande mi spiace buonasera eldest non l'avevo letto buonasera benvenuto credo che sia rinza eldest non lo so però dice di mostrare i bracciali gucci leggendari non posso inspectarti puoi solo linkarli di qua scusatemi linko in gilda pac guardate cosa si è preso quel bastardo di kravus che flex che flex ragazzi questa è una roba grossa ti serviranno grande nerd sai tutto sono proprio rinza ti ho sgamato super da gnome gnome merigan bravo questo è exalted warsong gulsa quello lì c'è scritto di fianco che hai giocato tanto fai schifo e hai buttato la tua vita con i warsong outriders basta arrivare a rever no non basta arrivare per questi exalted ok non ho alcuna intenzione di farlo ok siamo quindi in questa ultima zona dopo tante caverne ok vedete lì in alto che ci sono quelle rocce che sporgono lì è dove si compie il gioco e nello specifico il gioco si compie iniziando da qua dove tra l'altro c'è un cadavere di uno guardate vedete che c'è uno scheletro perché qualcuno ha provato ad andare ha provato e ha fallito bravo di qua di qua gravo hanno provato e hanno fallito hanno provato e sono morti allora questo è il salto l'unico salto difficile ok bisogna bugarsi su un pixel qua da qualche parte il bello è che io ce l'avevo fatta poi sono sceso ma non ce la faccio no no ma quello qua qua ci arrivi facile poi dopo che è un problema pensa da vivo con la mount col ma no ma che mount non si fa un cazzo con la mount ma che cosa dobbiamo fare qua scusami devi saltare per arrivare lì dove è morto sto tipo ma come è fatta a morire eh l'hanno ammazzato in mob ma adesso magari ci spone in faccia è molto di fame continuate a provare intanto guardo esattamente l'angolazione che va seguita per fare il salto continuate a provare stronzi esatto anche qui dico ma uno si è messo a provare a 600 volte sì sì ma perché lo vedi lo vedi che è fattibilino non so come dirti dopo un po' che conosci il gioco lo intravedi che si può fare posso rispondere un attimo a una domanda in chat buonasera rcosimod benvenuto su mmo.it allora se vuoi acquistare wow dipende se vuoi giocare a wow retail quindi wow moderno se vuoi giocare a wow classic è quello che stiamo giocando noi e che consigliamo noi cioè noi consigliamo la season of discovery di wow classic se vuoi giocare comunque no non devi acquistare il pacchetto 89 euro assolutamente no se vuoi giocare a wow retail consigliata che puoi scaricare la prova gratuita c'è la free trial no no da più in fondo se invece vuoi giocare a wow classic come noi basta pagare l'abbonamento mensile 12 euro al mese e basta non hai nessun'altra spesa comunque no il pacchetto non ti serve assolutamente a nulla ma si arriva direttamente di sopra non ho visto dove si atterrava o sui piedi del cadavro aspetta la rifacciamo tanto si può rifare allora io l'ho fatta non proprio al limite ma quasi spostate un attimo plini che sei gigante spostatevi tutti spostatevi tutti così vedete esattamente dove salto io ho fatto una roba tipo così tipo così ok da farmi da farmi scivolare un po' perché ti devi far scivolare un po' è molto difficile è molto difficile questo salto è l'unico è l'unico da fare è l'unico da fare quindi poi una volta fatto quello state fermi e vi dico esattamente quello che va fatto cazzo è l'unico salto da fare ragazzi ma avete visto che si può fare perché vi ho dimostrato che è fattibile quindi ora con una rinnovata speranza sì sì ci provo nel frattempo permettetemi di rispondere un attimo allora la free trial non è limitata però è limitata di livello arrivi solo fino al livello 20 considera che considera Cosimo che la prova gratuita non conta quasi nulla cioè a livello 20 ci arrivi in un'ora bravo 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 ti ricordi più o meno dove hai saltato lì dove dicevi tu se ne ho fatti 40 cazzo però il problema è che la prova gratuita c'è solo per WarRetail per WarClassic devi abbonarti che è quello che consiglio da abbastanza indietro nella punch dove Plini è spiaccicato contro la pietra della montagna mettendosi la parete di quella roba alle spalle e poi saltando quasi si sta ce la faremo io ce l'ho fatta pure prima quindi no al problema non sei tu infatti comunque ho sculato ce ne ho fatti un tot eh certo certo perché devi atterrare proprio sul pixel eccolo ecco e da qui dove si va allora no aspettiamo va bene si si no giusto per capire se è a destra o a sinistra a sinistra ripeto Cosimo se vuoi unirti a noi non esiste la prova gratuita devi semplicemente pagare l'abbonamento punto non hai nessuna altra spesa esatto né espansioni né niente solo l'abbonamento basta perché questa è la season of discovery non è wow retail di wow classic devi scaricare il client battle.net wow classic R Cosimo wow wowcraft classic basta che scrivi su google non ti puoi sbagliare comunque si esatto di scaricare battle.net allora plini vai indietro e fai un bel salto si si vai e dai dai un po' così eh quello che sto provando si grave esatto poi si va di lì poi è fatta non c'è nient'altro di difficile guarda plini con le spalle bene contro la parete della montagna dietro di te perché secondo me a un punto quasi quasi lo capisci perché ti bughi prima di saltare no tranquillo 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 secondo me un po' più verso la montagna si eh ok così gira un po' a destra un po' a destra vai quello è ecco ecco quello è quello è intanto ciò che andare il più in qua possibile perché ti incastri no no cosimo ascolta non esiste la prova gratuita non esiste la prova gratuita su wow classic devi abbonare allora ci penso io tu salta allora caro cosimo si si tu salta tu salta tranquillo ci penso io a rispondere a cosimo sai che esistono cosimo varie versioni di wow la versione a cui stiamo giocando noi adesso è wow classic season of discovery per questa non è previsto alcun free trial ma non è previsto neanche alcun costo se non l'abbonamento mensile quindi tu scarichi il client battlenet crei un account paghi un mese di abbonamento per world of warcraft scarichi wow classic entri nella season of discovery selezioni il server crusader strike bravo adesso barra spaziatrice w per salire da me ok basta ci sei incredibile questo è cosa adesso qua calma calma qui in caso se hai paura mettiti e cammina cammino ok sto camminando bravo piano piano perché tu sei grosso quindi prenditela pure comoda bravo spiaccicato con la faccia ma è così devi fare bravissimo perché tu sei grosso comunque dico solo una cosa join al nostro server discord cosimo se vuoi così da lì ti possiamo seguire passo passo c'è un canale dedicato a world of warcraft yes grazie qua ho già capito si sale contro la pietra esattamente smettila di camminare plini e saliamo lungo la pietra comunque io letteralmente non so come ho fatto non stavo neanche guardando aspetta però secondo me a caso al duecentesimo salto non stavo neanche guardando aspetta un attimo che devo rivedere poi questo salto perché non capisco minchia questo salto è difficilissimo aspetta no ma no ma l'ho fatto in un attimo prima certo che si può fare con noi cosimo deve arrivare a livello 40 al momento il cap è il 40 poi quando inizierà la fase 3 lo potranno al 50 si bisogna livellare si e ovviamente il salto è quello ovviamente minchia non ho visto da dove sei saltato da te da te da te da lì dove anche plini vado basta crederci grandissimo grandissimo molto bene ragazzi e da qui è facile da qui è facilissimo si si su perfetto io stavo già andando dall'altra parte iniziamo a sentire dei muri invisibili li sentite? qui no ok si si iniziano ad esserci dei muri invisibili ma non vi preoccupate perché si aggirano e qui è per andare a Mountijal Mountijal signori Mountijal infatti siamo all'estremo sud di Winterspring in questo momento ecco Mountijal davanti a noi anche se si vede poco ma non possiamo scendere perché c'è il muro invisibile per arrivare dobbiamo ancora salire esatto non vedo nulla davanti a noi però attenti a non cadere che ci si bugga è qui attenti a non cadere che ci si qua ha trovato bravo esatto certo che non sia vero ufficiale Cosimo se no mi capagresti il canone se fosse un server pirata certo noi non giochiamo server pirata nel senso sarebbe anche un po' illegale streamare un server pirata poi non cioè ci mancherebbe che consigliassimo ai nostri utenti un server pirata oddio ti ho visto ci siete ragazzi? si cazzo non ho saltato no vabbè easy tranquillo si può risalire se cadete quindi non preoccupatevi troppo è un po' scomodo qua eccoci basta ci siamo no sono rimotto adesso ci muoio benvenuti a Mountijal ragazzi eccoci dall'altra parte della zona guardate qua c'è il muro invisibile vedi c'è lo puoi usare anche per ritornare allora la storia di Mountijal è che c'è una grande invasione che viene fronteggiata da tre diversi accampamenti quindi adesso vedremo la zona più tre accampamenti distrutti che non sono fatti ma si vede la distruzione quindi questo è Mountijal vi invito anche a guardare in alto a destra la minimappa per vedere la zona dall'alto e anche a colori purtroppo oggi la vediamo in bianco e nero perché non c'è alternativa per questa season comunque benvenuto su discord Cosimo bella se scrivi qualcosa poi magari ti diamo i poteri perché mi sa che c'è ancora quel bug che se uno scrive creandoti il personaggio devi giocare a WoW fare tutto il giro di WoW quindi il leveling eccetera e poi al cap informati un attimo sul gioco perché è bene non sapere due robe prima di buttarci secondo me devi raggiungerci cose ma devi livellare devi scegliere la classe giusta ma magari prima prova un mese che se poi non ti piace prima di fare quello annuo magari ti accorgi che non fa per te beh però mi piace chi si butta con tutte le Skype chi ci crede nelle cose e se lo faccio lo faccio guarda noi che ci giochiamo tanto siamo tutti mensili ma io più che mensile tu? si vabbè comunque si si abbiamo il mensile guardate ragazzi che zona comunque adesso è chiaro che il biancano era eccetera ma siamo perfettamente ai giallo potete vedere dalla mappa il massimo che ho fatto è il b mensile zona tutta fatta incredibile e gigante e non lo sapevo cioè non sapevo che proprio ci potessi entrare e ci fosse tutta vedi quante cose si imparano con i miei streaming ah ci hai giocato tanto benissimo allora allora sai tutto allora è semplicemente WoW Classic Season of Discovery Server Crusader Strike la Tord io l'unico consiglio che posso dare è che vabbè è una cosa che saprai già ovviamente se hai giocato a WoW però io comunque lo dico cioè scegli bene cosa vuoi fare nel senso vuoi fare il tank vuoi fare DPS vuoi curare in giro che lo sappia se hai giocato tanto no lo so però magari non ci gioia dice che ci hai giocato tanti anni fa io sai nel dubbio meglio dire una cosa in più che una cosa in meno eh better safe than sorry perché poi da lì in base al ruolo che vuoi fare scegli la classe la razza tutto il resto comunque adesso iniziamo iniziano le parti un po' più interessanti e questa è una strada e mi rendo conto che è quello che è tra l'altro ho controllato adesso Battle.net a me scade tra 17 giorni quindi magari se mi scade passo qualche giorno offline un'avvento disattivato esatto vedo del fumo nero laggiù esatto esatto c'è la prima parte degli accampamenti distrutti guarda la mappa guarda la minima appena alto a destra vedi che dall'erba in teoria si interrompe c'è una parte di distruzione no e questo è dove stava il primo accampamento nella storia di WoW Warcraft 3 l'ultima missione di Warcraft 3 coinite elf vero mi pare l'ultima missione di Warcraft 3 spoiler di 25 un gioco di 25 anni fa è una ascesa continua però quando arriviamo al fondo che c'è lo scheletro di Archimonde vale la pena aspettate guarda tutti gli asset già messi gli alberi caduti le porte c'era tutto era praticamente cioè dal punto di vista modellistico grafico la zona è fatta incredibile è tutto fatta e quindi dici che qua ci potremmo andare anche da vivi più avanti sì certo andiamo a vedere la zona vivi certo certo ha colori e tutto quanto descrivici i colori eh guarda guarda che siamo ciechi allora il lastricato è un lastricato meraviglioso che risplende alla luce della luna di colore argenteo gli alberi sono un verde più verde che non hai mai visto in vita tua in un prato fiorito meraviglioso pieno di primule erba meravigliosamente tagliata ben tenuta gli uccelli sonrazzano gli scogliattoli passano è tutto meraviglioso è un posto gioioso comunque senza la distruzione paradisiaco la pace dopo la tempesta sì sì nell'allore è dove c'è l'albero della vita quindi è la cosa più bella che puoi immaginare è un locus amenus ecco bello bello che poesia adesso voglio sentire la musica delle parole sì anche da ghost al suo fascino il problema della roba del ghost più che i colori è la draw distance ridottissima che c'è questa nebbia in mane ecco solo quello è sta musichetta che ormai si fa odiare diciamo perché se sei morto non è che è andata bene comunque certo certo come la sveglia però devo dire che nel suo essere è una musica sì ti calma ti calma i nervi rosichi è fatta molto bene cioè beh ma blizza aveva una capacità artistica cioè bellissima poi guardate guardate qua altro esempio di level design bellissimo come piace a me non il livello tagliato cioè tu hai un promontorio è una strada che lo costeggia per cui di fatto l'azione si svolge su metà del piano del livello no? perché l'altra è un dirupo eh sì proprio come piace a te proprio come piace a me alla fine io faccio sempre abbonamenti mensili ma perché di mio ho problemi di sfiducia ma alla fine se una cosa la conosci sai già che te la giocherai in santa pace perché no certo un investimento sul lungo termine mi piace secondo accampamento distrutto aspettate voi siete andati sinistra o destra? destra destra guarda la minimappa ok almeno la minimappa con il fatto che siamo morti al massimo dalla mappa vi vedo ah no la minimappa dalla minimappa non mi vedo zoom a meno sulla minimappa eh non posso non posso ma noi ti vediamo non è possibile quindi tu vedi noi io non mi vedo sulla mia minimappa aspetta vi faccio uno screenshot niente mi vedo dalla mappa non dalla minimappa adesso vi vedo perché è troppo zoomata però non so come zoomarla con la rotella con la rotella ah cazzo sono un cretino grazie grazie sei pronto cravo? grazie a te siete pronti ragazzi qua c'è qua c'è c'è la chicca qua c'è la chicca oh mio dio oh mio dio oh mio dio innanzitutto aprite la mappa guardate dove siamo e beiamoci del fatto che siamo dentro Mount Ijal zona chiusa bellissimo un po' incredibile adesso giriamo l'angolo e si possono fare si possono fare le moto da moto no ovviamente non può fare niente non puoi neanche scrivere forse non è ancora qua e ancora c'è scusatemi niente ho hai fatto per nulla non era curva 3 era curva 4 esatto esatto era destra 5 destra 5 poi va a gomito scusate c'è ancora una base da vedere vero è vero guarda asset random qua messo il tempietto lo vedi quanto fighissimo è dietro di noi ah vero bello si ma è incredibile anche questa zona come quella di prima del villaggio troll è tutta fatta guarda che bello comunque questa strada in salita è proprio bello è qua peccato non vederla adesso capisco quello che intendevi prima quando dicevi che è stato uno spreco come l'han gestita in cataclis perché c'era già la zona cazzo bastava aprirla te l'ho detto non si sono mai decisi su cosa fare alla fine hanno fatto una zona di leveling stupida in cataclis ma è completamente diverso da quello che stiamo vedendo un'altra zona no 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 è praticamente uguale ok ci sono un po' di alcune differenze ma per lo più uguale ma se io mi butto giù con lo spirito di sotto e poi deve risalire un altro di cazzo se vuoi dopo lo fai tanto dobbiamo fare poi un stuc per tornare indietro ma se ti butti muori da qui muovi sicuro lol muori per sempre ti cancellano l'account ecco ci stiamo avvicinando all'albero della vita ragazzi esatto se muoi da morto c'è il permade esatto adesso lo vediamo davanti a noi in lontananza ma è l'albero di Elden Ring se ci arrivi ti porta direttamente ti si apre Elden Ring tipo tipo e ti teleporta inizia a intravederne le fronde adesso se guardi in alto shadows o di Elden Ring eccolo qua davanti a noi incredibile dove sono e qua c'è l'ultima zona l'ultima base distrutta con un gigantesco cratere dentro il quale prima la gente giustamente suggeriva che in queste zone lammere ci si fanno dei bei duelli sono assolutamente d'accordo secondo me se vuoi fare il duello epico in cui ti giochi il personaggio devi venire qua nella zona qua in mezzo al cratere gigante adesso ovviamente ci andiamo ma tra l'altro è una zona enorme 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 è una delle più grandi del gioco è tipo le barre è una delle più grandi del gioco è assurdo che tra tutte le zone che potevano lasciare chiuse è proprio una delle zone più grandi sì ma capisci che anche in quello si iniziava a vedere il declino adesso ti spiego guardate che bello intanto scusate questo cratere al centro fare un duello qua dove ti giochi cioè hai capito non puoi che farlo qua il duello della vita ma non c'è fai il ma che gorà il duello duele to the death il duello alla morte qua il duello fino alla morte e dicevo pensa al declino qua aveva in wow vanilla i developers di wow vanilla avevano fatto questa zona poi avevano detto però per l'alore è troppo importante quindi pensiamo bene a cosa vogliamo fare per l'alore è troppo importante ma un tijal non può essere una mera zona di leveling stupida al pari delle altre quindi ce l'abbiamo l'abbiamo fatta ma la teniamo in sospeso questo era il ragionamento che avevano fatto i developers di vanilla poi a cataclysm avevano detto mamma che cazzo me ne frega a me zona di leveling dall'80 all'82 ale bello ma tu pensa adesso ti faccio sognare pensa se all'endgame della season discovery apro ma un tijal eh infatti infatti lì gli do l'annuale gli do lì si che gli buttiamo from home in screen beh potrebbero e cazzo ce l'hanno già la zona mamma mia mamma mia fare una roba però appunto sapiente non una zona come le altre perché è vero in game blizza comunque ha detto che ci saranno dei nuovi contenuti in game con questa season chissà delle sorprese hanno detto chissà è bello fantasticare ci siamo quasi ragazzi l'albero davanti a noi è sempre più vicino annuale make it rain dice esatto make it rain ragazzi e a quel punto si blizza guadagna il lifetime l'abbonamento a vita come mai stala ci siamo adesso per davvero velaipo adesso velaipo siete pronti però non ci saranno i piani però hanno detto che ci saranno dei nuovi contenuti e delle sorprese attenzione ecco lo scheletro di archimonde dove? sotto il mount isal sotto l'albero della vita pazzesco pensate che faccio uno screenshot scusate se vado più avanti di tutti senza cadere è possibile è bello faccio uno screen incredibile queste storie queste storie di wow ragazzi signori dove ci ha poettato Askezo stasera eh sì ragazzi ma dove ci hai poettato eh sì figata se sì vabbè ma non c'è altro io mi butterei giù perché tanto qua lì c'è solo una strada ma di strade ne abbiamo già percorsa a sufficienza e andiamo a fare il ticket per l'unstuk sotto archimonde sotto l'albero della vita gigante e nel in tbc avevano aggiunto questo raid appunto però era un raid ambientato nella grande battaglia di mount isal e alla fine l'ultimo boss era archimonde lo devi combattere qua fondamentalmente sono dependiti nell'albero della vita ma è profondissimo l'acqua sì ah sì sì se non sbaglio va in no clip va in zona no clip puoi andare ovunque se no facciamolo ma andiamo dall'altra parte forse sbucchiamo nelle eastern kingdoms no non sbuchi nelle eastern kingdoms perché te mo ti arrivi la fatigue ma mi pare che qua hai un buco che non finisce e esci eh no ma poi inizia io non mi fido sai inizia a cadere nel vuoto secondo me e cosa mai mi può succedere se cazzo nel vuoto no niente devi fare poi unstuck però può essere più lunga e se uno vuole fare unstuck prima lo facciamo qua ma è va bene vuoi andare proviamo no non lo so se rischiamo di rimanere inculati proviamo proviamo è veramente suggestivo però si si ma adesso non voglio dire una cazzata ma mi pare che ci sia il buco nelle texture diciamo cioè esci dal mondo ma quanto sarebbe bello sbucare nelle eastern kingdoms esatto e si è tipo il viaggio nel centro della terra esatto esatto con i buchi dall'altra parte peccato non posso mettermi la waterfoil comunque si mi pare ci sia il buco infinito si c'è una pozza d'acqua dentro all'acqua che cazzo è sta roba no no ho raggiunto una fine hai raggiunto sai come lo definisco ho raggiunto il seme della vita cazzo sembra il buco nero guarda perché le texture anche diventano sempre più strecciate sembra veramente il buco nero la quinta dimensione sai come lo definisco questo streaming di stasera uno streaming esoterico uno streaming esoterico alla ricerca del senso della vita in wow la recherche ma che tipo di questa roba la rassan sei passato attraverso questo oggetto no cioè più o meno in parte questo è il seme della vita un cazzo di buco nero si streccia si 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 incredibile non c'è più non c'è nient'altro qui eh si ma perché forse sai che forse sta roba qua l'hanno aggiunta l'hanno aggiunta perché a me pareva che qua tu arrivassi fuori proprio cioè io adesso non so se mi sto inventando le cose eh eh si questo è in game issues con le bolle chissà che cazzo volevano fare qui alle bolle vuol dire che pensavano ma infatti è assurdo infatti è assurdo cioè ma questa roba delle bolle e c'è non me la ricordavo questa quindi se non vorrei dire che hanno aggiunto la season of discovery non penso però è bello strano è passati 15 anni da quando giocavo sì no ma infatti figurati chiaro chiaro non mi fido non offenderti se non mi fido della tua memoria poi niente eccoci ho un soccato io ragazzi sì adesso dobbiamo andarcene e quindi facciamo no 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 bisogna fare ticket devi andare nella casella dei ticket customer support options dove hai ah support gli devi dire ah io ho fatto una cazza no scherzo sub meet no eh stuc come dove dov'è che si fa madonna scendi no torna indietro che ti dico stucca character service bravo lì 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 aspetta dove scendi un attimo c'è sulla destra comunque è come dice non è intuitivo ok ok sì l'ho visto perfetto ragazzi benissimo eh figata no cosa dite di questo streaming siete contento magari sarà uno spot per qualche rune in futuro pensa che figata potrebbe essere il problema è che sì il problema è che se in futuro ci metteranno una rune devono metterti qualcosa per respirare perché se no o sei un druido con la waterform ah devo selezionare il personaggio beh sì io l'ho fatto ma penso che stanno laggando perché ci metto tra ora a selezionarmi le cose ecco character will be kicked offline va bene move character eh gli ultimi due minuti siamo arrivati al fondo star dust questa non so come dire tre due al fondo di questa pozza character will be kicked offline ok ci metterà devo dirgli qualcosa move character vi aspetto a winter spring sì per un portale io ho been disconnected from the server sì è vero che l'item per respirare c'è già però è un item raro al momento c'è soltanto askezo a meno che non sei un druido cioè del nostro gruppo c'è solo askezo è molto intrigante sono d'accordo con emilis eh vi ho fatto vedere delle belle cose ragazzi vieni sei dentro o stai caricando sì sono dentro sono a winter spring sì sì vieni vieni che ci fa un portale per orgrimmar e possiamo salutarci prossimamente vi do delle anticipazioni appena entriamo orgrimmar perché non finisce qua ragazzi abbiamo ancora delle cose da vedere delle cose molto belle tra l'altro prendiamo un po' talino prossimamente alla ricerca delle zone assurde di wow eastern kingdoms tierisfalglades a ovest di detenil zona assurda mai vista a sud di silver pine forest a gilneas su questa punta qui a nord delle eastern pleguelands ma non ci andremo in questa fase purtroppo invece andremo all'aeroporto di iron forge lo voglio certo che andremo all'aeroporto di iron forge andremo a est delle burning steppes a est delle wetlands basta il primo che hai fatto vedere che non ho visto qual è tierisfalglades a ovest di detenil e poi in realtà adesso mi riservo il diritto di pensare se riesco a fare un salto qua alla burning steppes per arrivare nella cascata di stormwind qua dietro la cascata di stormwind però devo vedere se si può fare con la mount al 60% temo si possa fare solo con la mount epica al 100% molto interessante lol stai dust dice io ne ho droppate un sacco di quelle staff che fanno espirare e non credevo fosse raro beh le droppi solo a gnomeregan quelle beh minchia ma è super raro cioè di tutti noi c'era soltanto askez e beh è un drop di raid insomma quindi è abbastanza raro ma per dire sei stato super sculato stai dust non buttarle cioè se le vendi c'è gente che la paga ma no non le vendi sono soltbound eh ma sono soltbound dopo che dopo quanto due ore tre ore sì vabbè ma non penso che la gente ti offra 200 gold per quell'item in tutto rispetto vabbè comunque è roba rara comunque vabbè scusate è roba da tenere se ce l'hai tienila una di quelle staff da underwater breeding sono sempre utili ragazzi è stato un piacere streamare per voi questa sera insomma abbiamo fatto un bel giro eh sono in talon mountain in tutta la parte della costa bugosa siamo andati fino a winter spring a ishal dopo e prima nel villaggetto tra felwood e dark shore e moonglade che era quanto era bello quel villaggetto ragazzi bellissimo io ci volo sempre sopra da moonglade bellissimo adesso sai cosa vuol dire metterci anche i piedi bello quindi grazie mille per essere stati con me bella piena or green man in season of discovery puoi dirlo e non è neanche tanto piena perché quando c'è il reset dei ride è più piena il tipo domani sarà più piena sono anche le 11 e mezza domani qua verso le 6 7 sarà piena gremita no ma c'è un botto di gente in questa season of discovery quindi venite anche voi venite anche voi buonanotte ragazzi grazie mille seguiteci sempre su mmo.it a voi l'ultima parola ciao ragazzi grazie io dico solo che domani se tutto va bene streamo io stream in nostalgia torniamo su star wars battlefront il primo originale battlefront lasciamo perdere quella quella collection della meta fatta da aspire che ho già fatto il reso che steam mi ha già dato il reso quindi niente torniamo sull'originale star wars battlefront del 2004 domani sera non mancate perfetto bene ragazzi seguiteci iscrivetevi e abbonatevi al canale e riporteremo molto presto questi contenuti bella ragazzi buonanotte bella ragazzi buonanotte a tutti ciao ciao bella buonanotte grazie a tutti